Allora iniziamo questa giornata con gratitudine, con gioia e segniamoci con il segno della croce e lo faremo in maniera così regale, così nobile, con tanta consapevolezza, ricordando che Dio in questo atto vuole ripetere la creazione dell'uomo e noi riceviamo quest'atto, Dio ci dice io te ho creato nell'immagine del figlio mio e desidero per opera dello Spirito Santo, di farti ritornare a quello stato di purezza originale, così come Adamo venne creato. Allora facciamo eco al Padre, al Figlio che ci benedicono segnandoci con la croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Che cosa possiamo fare adesso se non l'atto più importante ed essenziale della nostra vita, quello di fonderci nella divina volontà. Molti, penso tutti noi, stamattina abbiamo compiuto un atto di dire Signore, ecco al sorgere del giorno voglio fondere la mia volontà nella Tua. Ripetiamo questo atto, atto preventivo. Questo atto preventivo è molto potente perché con qualsiasi tipo di parole, di pensieri che vogliamo utilizzare dentro di un atto potente perché così come noi lo vogliamo il sole della divina volontà sorge in noi. Allora è come se andiamo a scontare, ad anticipare tutti gli atti della giornata. Noi andremo a fare questo, questo e quest'altro, però io appena apro gli atti dico Gesù guarda tutti gli atti di questa giornata come se li volessi anticipare in questo punto guarda già te li metto tutti nella divina volontà. Allora facciamo questo atto preventivo. Gesù dice a Luisa, anzi Luisa dice Gesù, se un atto fatto nella divina volontà ha tanto valore, ahimè quanti me ne lascio sfuggire. Allora Gesù dice c'è l'atto preventivo e l'atto attuale. L'atto preventivo è quando l'anima al primo sorgere del giorno, decide e conferma di voler vivere e operare sempre e solo nella divina volontà. Allora previene, anticipa tutti i suoi atti e li fa scorrere tutti nel volere divino, è come se li riducessa ad un punto solo. Con la volontà preventiva dice Gesù, il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti come dentro ad un solo atto e questo supplisce all'atto attuale, supplisce a tutti quelli che poi andrò a fare nel corso della giornata. Allora adesso vogliamo fare l'atto più importante della nostra vita, ripetere questo atto preventivo e diciamo Gesù in questo giorno così glorioso, la domenica delle palme in cui tu vieni osannato forse come un re umano, noi ti vogliamo osannare come il nostro re divino, re dei re, re del regno della divina volontà e lo vogliamo fare nel modo più semplice, qui diciamo siamo soltanto dei bambini balbettanti, però ci mettiamo nelle tue braccia, vieni volontà divina, vieni a formare il tuo sole in noi. Ecco, allora fondiamoci parte per parte nell'umanità di Gesù, magari io ecco lo esprimo con la voce, ciascuno lo può esprimere all'interno del segreto dell'anima con Dio, io non posso entrare nel segreto adorabile, santissimo dell'anima di ciascuno di voi con Dio, questo è un prodigio che soltanto Dio vuole, conosce e gode. Allora, Gesù innanzitutto voglio fondere la mia intelligenza nella vita. Vado io, vado io. Il mio intelletto nel tuo. E come il tuo intelletto è collegato con quello di tutte le creature, contiene i pensieri di tutte le creature, io con il tuo intelletto voglio penetrare nell'intelletto di ogni creatura, in nome di tutti adorarti, ringraziarti, contemplarti, conoscerti, comprenderti, comprenderti e dare gloria e adorazione al Padre con la potenza della divina volontà in tutta l'opera della creazione. Quindi con quest'atto preventivo, fondendoci nell'intelligenza di Gesù, abbiamo dato gloria al Padre in tutta l'opera della creazione, facendolo nell'intelletto di ogni creatura. Gesù, la mia memoria, la mia memoria, sperdila nella tua, dammi la tua per ricordarti, per ricordare sempre i tuoi insegnamenti, le verità, le cose che andrò ad imparare quest'oggi, le verità del vivere nel divin volere. La tua memoria tiene tutto presente, è onniveggente, è come se tutti gli atti fossero presenti allo stesso tempo. Allora dammi l'onniveggenza della tua memoria, così tutti i tuoi detti, i tuoi insegnamenti, le tue pene, la tua vita, i tuoi atti, li possa tenere sempre presenti nella mia memoria ed acquistare la tua memoria divina. E allora con la tua memoria io vado con questo filo di luce del divin volere che tiene collegate tutte le memorie delle creature, io prendo questa autostrada di luce e posso entrare nella memoria di ciascuno. E all'interno della memoria di ogni creatura dico grazie Redentore nostro per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che hai patito. Ti ringrazio in nome di tutte le creature, nella memoria di ogni creatura tengo tutta l'opera della redenzione. Gesù la mia volontà, sperdila nella tua, dammi la tua per vivere. Abbiamo iniziato questo atto preventivo. Prima di iniziare il nostro giro nella creazione stavamo rinnovando il nostro atto di fusione nella divina volontà. Così siamo sicuri, sigillati in un modo talmente sicuro che è impossibile per non uscire dal divin volere. Dovremmo dire con spiegamento di voce, con una volontà potente, voglio uscire dalla divina volontà. Qualcuno di voi vuole questo? No. Impossibile. Per cui non è assolutamente. Di qui non si esce. Gesù dice di qua non si esce. Perché ci pensa lui a tirerci dentro, cioè lo vogliamo. Ed è anche questo. Benissimo. Allora, continuiamo l'atto preventivo di fondere le potenze della nostra anima, l'intelletto, la memoria, la volontà, nel intelletto memoria e volontà di Gesù. Questo è l'unico modo per entrare nella divina volontà, passare attraverso l'umanità di Gesù. Allora, abbiamo compiuto anche per voi e con voi la fusione del nostro intelletto e della nostra memoria. Adesso fondiamo la nostra volontà nella volontà di Gesù. E siccome in Gesù la volontà umana è fusa nella divina, e questa volontà abbraccia tutte le volontà umane, essendo dentro la volontà divina di Gesù, siamo in comunicazione con ogni volontà di creatura. Al di fuori della divina volontà, questa opera incredibile di poter viaggiare invisibilmente ed entrare in ogni creatura in modo reale, non la possiamo fare. Sarebbe una mia intenzione. Come dire, voglio stare nel tuo pensiero, voglio stare nella tua memoria. Impossibile. Però, se ci mettiamo dentro Gesù, se noi lo potessimo vedere, resteremmo estasiati. Vedremmo la versione gloriosa dei nostri capelli come dei raggi di luce che ci mettono in comunicazione con ogni creatura. Allora, prendiamo quest'autostrada di luce ed entriamo con la nostra volontà nella volontà di ogni creatura. E diciamo, nella volontà di ogni creatura vogliamo fondere tutte le volontà umane nella tua divina volontà, Gesù. E così come abbiamo adorato il Padre per l'opera della creazione, ringraziato il Figlio per l'opera della direzione, così vogliamo lodare, amare, invocare lo Spirito Santo nell'opera di santificazione del terzo Fia. Che tutte le volontà umane possano essere fuse e santificate nella divina volontà. E ancora fondiamo la nostra vista e i nostri occhi in quella di Gesù, perché i nostri occhi, quelli di tutte le creature, siano animati dalla luce interiore, che è la comprensione delle verità, e la luce esteriore, l'esterna del sole della divina volontà. E possiamo guardare, vedere le cose, Gesù, come le vedi tu? Vedere le cose secondo la realtà, la realtà divina, non secondo l'occhio umano, l'occhio malato, che sia mio, pepresbite, quello che sia. Ecco, dacci la tua vista divina per farci vedere, soprattutto oggi, il creato, come lo vedi tu, Gesù. Entrare dentro le cose create e scoprire gli atti della divina volontà che stanno nascosti in queste cose create. Solo tu ci puoi dare questa vista e questa comprensione divina. E lo vogliamo fare in nome di tutte le creature. Fondiamo il nostro udito nel tuo e ti chiediamo, Gesù, che ogni cosa che sentiamo dentro e fuori di noi sia la voce continua che chiama sempre ad amarci. Ogni suono ci riporti sempre al suono della tua voce e ci faccia comprendere ed ascoltare le tue verità. Questo lo facciamo nell'ubito di ogni creatura. E così pure la parola. La parola che sia figlia legittima di te, parola del Padre, verbo del Padre. Fa che ogni parola che proferiamo, che ascoltiamo oggi, sia una parola piena di vita divina, sia una parola che ci riempi di comprensione, di sapienza, di pace, di gioia, di semplicità, di tutte le qualità del tuo divino volere. E vogliamo riparare a tante parole inutili, a tante parole di carità non dette, a tante parole di scienze umane che riempiono la testa di cose inutili. Dacci l'essenziale, la conoscenza delle verità del tuo divino volere. Lo chiediamo in nome di tutti. E poi continuiamo a fonderci nell'operare delle nostre mani, che sia il lavorare, lo scrivere, il gestire, che tutto sia fuso nell'atto del lavorare, del gestire, di Gesù stesso. E così in ogni mano, in ogni opera di creatura. Lo stesso per i piedi, Gesù. Quante volte ti ho fatto avanti e dietro per la Palestina, la Decapoli, la Galilea, la Giurea, per portare le verità del Padre Celeste. E così pure noi. Ci vogliamo fare passo di ogni passo di creatura. E dove la creatura sta per cadere nell'abisso, noi la vogliamo fermare. Dove è stanca, le vogliamo dare vigore. Dove sta camminando nella tua via, vogliamo dare l'entusiasmo. Perché tutti possono essere apostoli che portano la tua parola e la tua divina volontà. E vogliamo ancora fonderci in questi atti che noi non controlliamo, non sono controllati dalla nostra volontà. Sono tre atti che ci portano alla presenza della Trinità in noi. Il palpito, il respiro e la circolazione del sangue. Fondiamo il nostro palpito nel tuo, Gesù. E insieme con te, che sei palpito di ogni creatura, ci costituiamo palpito di ogni creatura. Ad ogni palpito diciamo ti amo, Gesù. Ogni palpito sia atto di amore profondo. Ci fondiamo nel tuo respiro, Gesù. E vogliamo ricevere quell'alito originario che il Padre infuse nella prima creatura, infondendo l'anima e il dono della divina volontà. E costituendoci respiro di ogni creatura, vogliamo inspirare te ed espirare te, internalizzare te Dio e darlo a tutte le creature. Ed ogni respiro sia il respiro di adorazione profonda. Più profondo lo facciamo, questo respiro, è più profondo la nostra adorazione. E questo lo facciamo nei respiro, nei polmoni di ogni creatura. E ancora vogliamo fonderci nella circolazione del sangue. E vogliamo costituirci sangue nel sangue di ogni creatura che porti la gloria, la circolazione della gloria perenne. E ci chiediamo, Gesù, di purificare il nostro sangue naturale, per la salute del corpo, e spirituale, il sangue della divina volontà. Che sia sangue puro, sangue fresco, sangue che ci porta alla vitalità e la gioia dei figli del divin volere. Potremmo continuare quest'atto di fusione in eterno, ma in effetti questo atto continuerà in eterno, perché non si può fermare il fatto nella divina volontà. E allora adesso, diciamo Gesù, siamo tutti fusi in te e compiamo questo atto in nome di tutte le creature. Ed oggi ti vogliamo usannare come re del regno della divina volontà e come meglio potremmo voler farlo se non coinvolgendo tutta la creazione, tutto il creato. La creazione che poverina sembra morire con dolori di parto, perché? Perché non può compiere lo scopo per cui è stata creata. È come una madre che vuole partorire il figlio e non riesce a dare la luce. Allora immaginiamo che la creazione, ogni cosa creata, contiene delle cose che sono per noi. Grazia, conoscenza, cibo spirituale, beni, felicità, virtù. Queste cose sono depositate nelle cose create, però fino adesso noi non le abbiamo potute ricevere. Ecco, la creazione la guardiamo oppure l'abbiamo guardata in passato e vediamo, ah sì, che bel cielo, che bel mare, seppure l'abbiamo considerato. Abbiamo a volte considerato, sì, questo l'ha fatto Dio, ma in realtà vogliamo andare più dentro, non soltanto nella contemplazione e nel ringraziare Dio per aver creato queste cose, ma entrare e prendere l'atto di Dio che è nascosto e presente in ogni cosa creata. E insieme a quest'atto vogliamo dare gloria a Dio. E non soltanto questo, se lo vogliamo mangiare questo atto, vogliamo farlo nostro, così dentro di noi diventiamo l'immagine della creazione, così Dio nel guardare ciascuno di noi oggi dirà, guarda, non le manca niente a sta creatura. Il cielo ce l'ha, il sole ce l'ha, le stelle ce l'ha, è un'opera completa, non le manca niente. Potrà dire come a Maria Santissima, è un'opera completa. Questo lo possiamo fare soltanto se noi andiamo a prendere questi atti, se loro non si sentono visitati, come si fanno a darsi a noi? Allora, Luisa, era questa l'attività che faceva Luisa, Luisa non è che discutesse sulle verità, se qualcuno andava a visitare, Luisa faceva quello che la poteva riempire sempre e costantemente di queste verità. Man mano che andiamo a leggere i volumi, il primo paragrafetto dicevo, stavo facendo il mio giro, allora abituiamoci ad avere questa attitudine di Luisa. Ecco, tra l'altro, un modo semplice con cui possiamo internalizzare, possiamo abituarci ad avere questa attività di girare negli atti della Divina Volontà che tra l'altro ci impediscono di pensare a noi stessi ed è un grande dono, è quello di incorporare questi atti anche nella recitazione della preghiera del Santo Rosario. Sentiamo Nostra Madre Santissima che cosa ci dice? Come la Sovrana Signora vinse il suo creatore e in anellandolo con le sue catene d'amore lo tirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione, che sui dati scendi Messia, così la corona dolce e potente del suo rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la divinità, di conquistare il regno del Fiat Divino per farlo venire in mezzo alle creature. Allora, cominciamo a vedere, questo è un esempio, una possibilità che ci dà Nostra Madre Santissima di utilizzare il rosario non soltanto veramente come strumento di devozione o come qualcosa di dire inizio fatto basta, utilizziamolo anche per fare i nostri giri nella Divina Volontà. Ci sarà molto più facile perché abbiamo l'aiuto potente della Nostra Madre Santissima e abbiamo anche una catena naturale a cui ci possiamo aggrappare ed ogni grano è un atto. Allora questo giro nella creazione in cui faremo dieci atti sarebbe una decada di rosario, il mistero trionfante della creazione. In questo atto trionfante della creazione ti glorifichiamo Santissima Trinità in tutta la creazione. Allora, con ogni Ave Maria possiamo dire faremo una pausa e contempleremo e faremo quest'atto nella Divina Volontà. Se poi domani, dopodomani, tra qualche giorno noi vogliamo iniziare a incorporare questi atti nel nostro rosario, vedremo che sarà tanto più facile per noi fare i giri nella Divina Volontà. Sarà molto più facile eseguire questa catena. Innanzitutto, vediamo un pochettino perché è importante conoscere e adorare la Divina Volontà in tutta la creazione. Questo è quello che fece Gesù in ogni suo atto nei confronti della Divinità. In ogni cosa creata Dio metteva una relazione, un canale di grazie, un amore speciale tra la Maestà Suprema e la Creatura. Questo è il volume 12, 20 febbraio 1919. Figlia mia, entra in me nella mia Divinità e corri nell'eterna mia volontà e vi troverai la potenza creatrice come in atto di mettere fuori tutta la macchina dell'Universo. in ogni cosa che io creavo mettevo una relazione, un canale di grazie, un amore speciale tra la Maestà Suprema e la Creatura. Poi avremo tutte le copie di questo, senza altro. Il passo ancora è il volume 12, 20 febbraio del 1919. Allora, ogni cosa creata veramente contiene delle cose speciali che solo lì possiamo andare a trovare, un nutrimento per la nostra anima che dobbiamo mangiare, dobbiamo andarcelo a prendere. Però la Creatura non doveva far conto di queste relazioni, di queste grazie, di questo amore, sicché avrebbe sosteso la creazione non riconosciuta ed apprezzata. ma il Padre nel vedere la mia umanità, che tanto bene doveva apprezzare e che per ogni cosa creata aveva avuto le sue relazioni con l'Eterno, riconoscerlo, amarlo, non solo per sé ma per tutta l'umana famiglia, non guardò al torto degli altri figli e con sommo contento distese il cielo, tappezzandolo di stelle, sapendo che quelle stelle dovevano essere tante svariate relazioni, grazie senza numero, fiumi d'amore, che dovevano correre tra la mia umanità e l'Ente Supremo. E così per ogni cosa creata. Quindi questo lavoro l'ha fatto Gesù prima di tutti noi. Immaginiamo per esempio Gesù quando quante camminate si è fatto, miglia e miglia, da un paese all'altro, mica la viaggiava in carrozza. Non si può dire che i tre anni della vita pubblica di Gesù il 75% era camminato da una parte all'altra. E poi lui andava a una città, parlava, andava a ospitare una casa, la sera istruiva i suoi apostoli, ripeteva le parabole, le spiegava, la notte dormivano dobbiamo raggiungere un altro posto, la Giudea, la Galilea, e poi in Samaria, e poi giù, e poi di là, e poi di là. E ripercorreva, magari giù i 35.000, ma quante volte se l'è fatto? Allora magari durante queste camminate nei paesaggi bellissimi dei monti dell'Ermonte, la valle del Giordano, i prati della Galilea, le pianure feconde, i monti della Giudea. E' un paesaggio stupendo. Gli apostoli magari stavano lì ancora a discutere che era più grande tra loro, a litigare, a dire a Gesù ma guarda quello, ma mandagli fulmini su questi che non ci hanno accolto, e guarda sti farisei adesso li incontriamo, ma li faccio vedere io. E Gesù un po' li istruiva, un po' si estragnava, 5-6 passi davanti, e lo vedevano raccolto. Prima calava la testa, poi guardava, e quando guardava il cielo si illuminava, come per dire, ma cosa vede Gesù che noi non vediamo? E adorava, adorava, parlava con il Padre, adorava il Padre in tutta la creazione, scopriva la divina volontà, la vedeva, era in comunicazione con tutte le cose create con il piccolo fiorellino, lo guardavano ammirare i fiori, ma guarda sembra proprio un bambino, ha questi gusti così, anche le formiche, gli piace giocare con le formichine a Gesù, con le coccinelle, perché lui vedeva l'amore e sentiva l'amore del Padre in ogni cosa creata, come il figlio che si sentiva amato dal Padre, attraverso tutte le cose create. Il lavoro di Gesù è stato un lavoro costante, di giro continuo negli atti della divina volontà nella creazione, non soltanto quando nella vita pubblica, anche nella sua vita privata, quante volte andavano i prati a cogliere i fiori, anche lì fuori della casa stava lì a giocare nel giardino, magari a piangere, stava in contatto in relazione con tutto il creato. E diciamo Gesù, quello che tu hai fatto per tutti noi, che sta sospeso in te, adesso in te lo veniamo a prendere e lo facciamo pure noi. Tra l'altro, dice Gesù, volume 18, 9 agosto 1925, figlia mia, tu devi sapere che questo modo di pregare in giro nella creazione, cioè di ricambiare Dio in amore per tutte le cose da lui create, è un diritto divino ed entra nel primo dovere della creatura. Mamma mia, è un diritto divino, prima di ogni altra cosa, è un dovere sacrosanto per l'anima che vive nella divina volontà, ha una responsabilità grande, vive in questo volere divino dove ci sono tutti questi atti, deve ricambiare lei per tutte le creature. Allora è un nostro dovere, non è un optional. Dice allora io sono un figlio del divino volere, faccio il mio atto di fusione, e chiamo Gesù a camminare in me, a mangiare in me, a fare tutto quello che vuoi e poi se ci scappano, faccio anche un giro nella... ecco, abituiamoci a pensare che abbiamo anche questo sacrosanto dovere di andare anche una visitina, un balbettio semplice, un piccolo ti amo nella volontà divina in ogni cosa create. Più spesso lo facciamo, più lo comprendiamo e più ne prendiamo gusto. Non ricambiare Dio in amore per tutto ciò che ha fatto nella creazione per l'uomo è la prima frode che fa la creatura a Dio, è un usurpare i suoi doni senza neppure riconoscerli da dove vengono e chi tanto l'ha amato. Perciò è il primo dovere della creatura ed è tanto indispensabile questo dovere e importante che con lei che prese a petto tutta la nostra gloria, la nostra Madre Santissima, la nostra difesa, il nostro interesse, non faceva altro che girare per tutte le sfere, dalla più piccola alla più grande delle cose da Dio create, ed imprimere il suo ricambio d'amore, di gloria, di ringraziamento per tutti, a nome di tutte le umane generazioni. E questa è Maria Santissima, la sua vita non fu altro che un girare continuo negli atti della divina volontà, nella creazione per esempio. Infatti se leggiamo quel passo sull'Immacolato Concepimento nel volume 15 dicembre 8 del 1922, dice ma lo sai figlia mia qual è stato il primo atto di Maria Santissima appena uscita alla luce, appena è stata partorita purissima dal grembo di Sant'Anna? Con il suo balbettio di neonata, insieme agli angeli e ai santi, è entrata in tutte le cose create, ha fatto il primo giro di tutta la creazione e ha detto il suo grazie in nome di tutte le creature. Era Dio che dopo tanti secoli erano passati da quando Adamo Innocente faceva questi bellissimi giri in tutto il creato. Finalmente si poteva godere i suoi innocenti trastulli e nostra Madre Santissima non ha dato tempo al tempo, appena uscita dal grembo di Sant'Anna ha fatto il suo primo giro e ha detto grazie e questo grazie si ripercuoteva e faceva ecco in ogni cosa creata. Ondì io cercavo, dice Luisa, per quanto potevo, di girare per tutte le cose create, per dare al mio Dio il ricambio dell'amore, della gloria, della gratitudine per tutto ciò che aveva fatto nella creazione. Mi pareva di vedere in tutte le cose create il ricambio d'amore della mia imperatrice mamma e del mio amato Gesù. Ecco allora, a maggior ragione chiediamo l'aiuto della mamma che ci guida. E se non sentiamo questa passione, quest'amore, se ci sentiamo così piccoli, balbettanti, ignoranti, è ancora meglio. Immagina se ci sentissimo arrivati. Questo non è il posto giusto. Qui più di, diciamo, due giorni oppure siamo tutti neonati. Se ci sentiamo neonati, benvenuti, grazie a Dio. E quindi in questo ambiente divino, senza paura, con tanta semplicità, con tanta gratitudine, andiamo e compriamo questo giro nella creazione, aiutati dalla nostra mamma. Allora adesso ci muoviamo in un modo molto semplice, e siccome questo giro lo potremmo fare in tanti modi diversi. Allora, muoviamoci in due direzioni. La prima direzione, andiamo a vedere innanzitutto quali sono, facciamo una carrellata delle cose create. Le cose create il cielo, il sole, il mare, e vediamo, cerchiamo di scoprire qual è l'atto della divina volontà in queste cose create. E qual è lo scopolo? Noi potremmo fare questo giro in tanti modi diversi. Scegliamo, per esempio, questo modo, questa impostazione. Siccome l'uomo è la creatura completa, che deve inglobare, contiene tutta la creazione. Se pensiamo, il regno vegetale è un regno limitato, dove ci sono le perfezioni del regno vegetale. Il regno della vegetazione e le piante, secondo leggi della natura, secondo le leggi della fotosintesi, prendono il nutrimento dalla terra, fioriscono, eccetera. Anzi, prima del regno vegetale c'è il regno animale, il regno minerale. Nel regno minerale non c'è neanche la vita vegetativa. Il regno vegetale contiene il regno minerale, perché è costituito da tutte quelle sostanze della chimica, normali, l'acqua, l'ossigeno, l'idrogeno. E in più c'è la vita, la vita cresce, il fiume e il seme che fiorisce. Quindi vediamo che ogni regno della creazione, regno superiore, include quello inferiore. Quindi ci sono diversi gradi di perfezioni. Il regno minerale è perfetto in sé perché compie lo scopo per cui è stato creato. Il regno vegetale ha un grado di perfezione superiore ed è perfetto in sé perché le piante fanno esattamente ciò che Dio le ha create per fare. E include anche il regno vegetale, che c'è poi il regno animale. Il regno animale, ovviamente, gli animali di che cosa sono fatti se andiamo a vedere la composizione delle cellule è fatta proprio di minerali. Certo, carbonio, potassio, magnesio, tutto. In più, non soltanto c'è la vita vegetativa della crescita e lo sviluppo delle cellule, così come nelle piante, c'è anche il moto negli animali, c'è l'istinto, ci sono le funzioni digestive, ci sono degli atti di istinto, addirittura nell'animale c'è l'istinto amoroso, l'istinto della difesa. C'è una perfezione superiore nel regno animale, che include il regno vegetale e il regno minerale. Adesso l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio, include, racchiude in sé queste perfezioni inferiori ed è una perfezione ancora superiore. Dire che l'uomo è un animale razionale in realtà non è corretto, l'uomo non è un animale. L'uomo ha una natura diversa, come dire, se noi dicessimo che l'uomo è un animale razionale è come se dicessimo che un cactus è una pietra con le spine, oppure che... niente, ci sono delle divisioni e dei compartimenti, una pietra non si può trasformare in una pianta, così come un fiore non si può trasformare in una scimmia, così come la scimmia non si trasforma in uomo. Perché? Perché ci sono delle perfezioni aggiuntive che o le dà Dio, oppure le trasformazioni, le mutazioni, le evoluzioni. Allora, l'uomo non è un animale razionale perché è di natura umana, non di natura animale, anche se contiene in modo ancora più perfetto tutte le perfezioni del regno animale, vegetale e minerale. Ha una cosa in più che non può essere sviluppata da sola. Ha una natura anche materiale e spirituale, un'anima che gli è stata infusa da Dio, che gli animali non hanno. Quest'anima è eterna, non morirà mai. L'intelletto, la memoria, la volontà, la libera volontà intelligente è la cosa più bella che Dio ha creato. La volontà umana è la cosa più bella che Dio ha creato. E l'ha creata con lo scopo di vivere fusa nella divina e di ricevere l'atto operante della divina, per compiere dei prodigi delle nuove creazioni. La volontà umana è la cosa più bella che Dio ha creato, quando si separa dalla divina e diventa una scheggia impazzita, diventa la cosa più pericolosa che Dio ha creato. addirittura ammazza Dio. Allora, vediamo quindi, andiamo ad esaminare tutte queste cose create, perché? Con l'unico scopo di dire, vedi, allora io contengo tutta la creazione, perché la perfezione della natura umana con cui sono stata creata contiene anche tutto il creato. Questo creato, queste perfezioni minerale, animale, vegetale e tutte le cose create nei diversi regni della natura sono state create per me, sono state create come strumenti per comunicarmi delle cose e delle grazie e delle conoscenze che Dio vuole darmi. Allora io devo includere in me tutta quanta la creazione. E quindi il giro lo faremo in modo tale che noi entreremo nell'atto di cielo e poi chiederemo a Gesù di mettere quest'atto di cielo dentro di noi, così come passiamo da una cosa all'altra, noi le incorporiamo. Alla fine di questo giro avremo tutta la creazione all'interno di noi. E poi le dobbiamo continuare a coltivare. Allora questa. Poi alla fine, quando abbiamo fatto una breve carrellata delle cose create, siccome noi agiamo nello spazio e nel tempo, noi che possiamo fare diecimila cose contemporaneamente, allora andiamo a vedere per ciascuna cosa creata quali sono gli atti che possiamo fare noi in ciascuna cosa creata. Luisa faceva il suo giro in tanti milioni di modi diversi. Non è che noi possiamo fare un giro anche se noi mettiamo un semplice diamo, è già un giro. Se noi diciamo Gesù viene a formare la creazione un me, questo è un giro. Se facciamo compagnia è un altro giro ad ogni cosa creata. Vediamo allora la varietà, abbiamo assoluta libertà, creatività, abbiamo una potenza infinita, noi ci possiamo fare quello che vogliamo con la creazione. Allora iniziamo ad assumere questa dimestichezza, così che quando entriamo negli atti della creazione ci sentiremo a casa nostra, ci sentiremo che veramente possiamo consentire alle cose create di compiere il loro scopo, che è quello di servirci. E quindi noi le possiamo dominare, non perché diciamo alla mosca vai via quella se ne va. No, il dominare le cose create è veramente conoscerle nella loro sostanza, prenderle dentro di noi e ricevere tutto quello che loro contengono di beni divini. Perché nell'Antico Testamento il dominare, il possedere la sostanza di un essere, il dominare quest'essere si esprime con il dare il nome. Infatti Dio quando creò tutte le cose create, gli fece fare una carrellata davanti ad Adamo e adesso dagli un nome e lui dice, cavallo! Allora dicendo, bue, cielo! Allora questo dare nome ad ogni cosa creata, vuole dire io ti do un nome, ti posseggo, ti domino, o posseggo la tua essenza, perché il nome è l'essenza. Gesù vuol dire Salvatore, Yeshua, Salvatore il Messia, Yeshua Nizaret, come si dice in aramaico, ho sentito come è bello poter sentire il nome di Gesù, come si pronuncia. Ed ogni cosa creata, nel dare il nome ad ogni cosa creata, Adamo la possedeva, vuol dire prendeva il dominio, l'essenza di quella cosa creata, cioè riceveva l'atto di Dio, quella speciale amore, quella speciale qualità, quello speciale attributo divino contenuto in quella cosa creata, lo riceveva e lo faceva suo. E quindi quella cosa creata, essendo creata per Adamo, dice, ah, poteva partorire, e dice, ah, questo che ho contenuto per me, te lo do, tieni, è tuo, tu vieni in me, metti il mio ti amo, eh, io ti do quello che ho. Allora questo per noi vuol dire dominare il creato, dargli il nome, fiore, io ti posseggo, posseggo la sostanza di questo fiore, vuol dire che in questo fiore c'è quell'atto di dolcezza, di pace, di semplicità, di creatività, di gallezza infantile, che è uno degli attributi di Dio. Allora questo atto chiamato, non ti scusco, chiamato Margherita, io lo faccio mio, allora io domino la Margherita, perché la Margherita si lascia dominare, si lascia prendere da me. La Margherita è un atto di Dio, chiamato Margherita, che ha nello spazio e nel tempo quella conformazione naturale che ci espira ai nostri sensi a dire, ah, guarda quanto è carino, perché noi con le potenze dell'anima, tramite la nostra vista, il nostro udito, il nostro olfatto, possiamo percepire le qualità e gli attributi di Dio. E possiamo penetrare nell'atto che è contenuto, che è di natura spirituale. Ecco. Allora, andiamo avanti, oh, se no, eh, quando è finito, giusto, iniziamo a seguire, eh. Senti, in altri parole possiamo dire e prendere per l'atto l'amore speciale e che Dio ha messo in ogni cosa. Certo, 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 certo. L'amore speciale. Certo. Non con l'amore ma anche altre qualità. Bravissima, bravissima. Non solo l'amore, il colore, la perfezione, la qualità di Dio. Ecco. Allora, se noi pensiamo, se noi pensiamo adesso, diciamolo chiaramente, questo è un modo potente di pregare. Perché noi diciamo a Gesù, voglio essere più umile, voglio essere più paziente. Dove lo troviamo queste virtù? Dove troviamo l'atto vivente, operante, come atto divino? E' sparso in tutto il creato. Allora, fare il giro della creazione vuol dire acquistare, se noi entriamo in questo atto e lo facciamo nostro, senza accorgercene, noi acquistiamo questi attributi, queste qualità, questo amore divino contenuta, questa grazia, questa conoscenza, che è contenuta nelle cose create. Allora, per questo nostra Madre Santissima dice, quello che non siete riusciti a fare in 40 anni, 50 anni della vostra vita, ma la mia volontà ve lo fa fare in un giorno. Allora, se noi andiamo a visitare veramente la fonte e la sede degli attributi divini che ci vogliono nutrire, vogliono nutrire la santità della divina volontà in noi, andiamocela a prendere. Dove la troviamo? Nel creato. Allora, questo è un modo potente di creare. Ci rendiamo conto come a prima vista, non è un saltellare romantico, no, no, è dire Gesù, tu mi stai trasformando, perché io mi prendo i tuoi atti divini, che tu hai depositato in ogni cosa creata, me li prendo, sono miei, e questa appropriarmene mi trasforma, perché io mi mangio un cibo divino, spirituale, che trasforma ogni singola cellula, ma non solo dell'anima mia, ma pure del corpo. Il giro nella creazione, come il giro dell'anima nella divina volontà, è il modo più potente di creare, il modo più trasformante per santificarci. Allora, ci rendiamo conto come la santità del vivere nella divina volontà. Allora, diciamo, che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Allora, chiedere che cosa devo fare in questa... Allora, il modo più potente per vivere di involere andarci a prendere gli atti, andarci a ripetere gli atti. Questi ci trasformano, questi ci danno la vista divina, l'intelletto divino, ci fanno vedere le cose, ci fanno vedere le cose come le vedeva Gesù quando camminava, ci fanno sentire palpitante l'amore di Dio come lo... Certo, Adamo, prima del peccato, non agiva per fede, lui aveva la vista divina e vedeva, toccava, per questo lui era in estasi continua. Se noi... Mostra Maria Santissima, se voi sapeste quanto vi amo figlioli miei, morireste d'amore. Di gioia. Di gioia. Di gioia, di felicità, di gratitudine. Così pure Adamo era completamente cattato, catturato, cattivato, accattivato dall'amore di Dio che lui sentiva, da queste nuove conoscenze. Il fatto che Dio passeggiava con lui al fresco della sera e gli dava le nuove conoscenze e nuove... Allora, Adamo girava nel giardino terrestre e dovunque respirava Dio, vedeva Dio, sentiva la voce di Dio, sentiva il palpito di Dio, sentiva la freschezza di Dio e sentiva l'abbraccio di Dio, il bacio di Dio, l'amore di... Mamma mia, quanto era felice! E come poteva distrarsi lui? Era affogato di grazia, di amore, di conoscenza. Doveva fare un'operazione di fede? No, no, no. Anche Luisa spesse volte all'inizio dice, all'inizio nel volume 12, quando comincia questi atti nella creazione, Gesù mi ha portato insieme con sé nel vino in volere e io vedevo la dimina maestà in atto di mettere fuori tutta la macchina dell'universo e vedevo tutti questi canali di grazia, di amore, di conoscenza, di santità, presente in ogni cosa creata. Luisa pure, quando veniva chiamata in questo modo così reale nella divina volontà, non operava per fede. Altre volte però Luisa si trovava a fare il suo giro nella divina volontà, così pure com'è, diciamo lo facciamo noi, diceva quando Gesù, quando tu eri con me, io lo facevo bene sto giro. Mi trovavo in questi atti, vedevo tutto, capivo tutto, sentivo toccata dal tuo atto nella creazione. Adesso mi sembra che dico una filastrocca a memoria. E Gesù dice no, il tuo iniziare a fare il giro è farlo. La tua pena, quasi per non riuscire a completarlo, è per me completarlo. Allora se noi restiamo perseveranti e lo iniziamo questo giro, lo facciamo, anche se dobbiamo compierlo per fede, comunque gli effetti sono ancora più potenti, senza che neanche ce ne accorgiamo. Allora, ecco, questo per esempio è una serie di cose create, questa è una cosa per bambini, insomma, ecco, la varietà delle cose create, le stelle, la luna, il fulmine, il sole, la terra, gli alberi, le piante, gli animali, la farfallina, il leone, l'uomo, da gradi di perfezione inferiore a gradi di perfezione superiore. Ogni cosa creata è perfetta, perché compie lo scopo per cui è stato creato. L'uomo fuori dalla divina volontà è di gran lunga più imperfetto, non strazio in confronto alle cose, perché non compie lo scopo per cui è stato creato. Allora chiediamo alle cose create, cose create, quanto siete belle, voi state nell'ordine della creazione, insegnateci, insegnateci a fare la volontà di Dio come la fate voi. Luisa, per esempio, nel volume 1, ancora non sapeva niente di tutto questo, quando però cercava Gesù, c'era la torre disperata e lì entrava, andava e diceva cielo sulle stelle, parlatemi di Lui, voi state dove sta Lui, voi vi trovate nell'ordine del creato, voi lo vedete, lo sentite, Lui vi mantiene a vostra vita, dov'è Gesù? Istintivamente già si rivolgeva a Gesù per cercarlo nelle cose create. Allora quando noi ci manca Gesù e non lo sentiamo, ci sentiamo aridi, ci sentiamo fredici, andiamola a chiamare nel modo più potente che Lui non si potrà negare. Io sai che cos'è? Io mi faccio aiutare dagli atti della Divina Volontà, andiamo a fare una sorpresa, sole, cielo, terra, venite, venite, come chiamiamo Gesù? Lui ha le mani legate. Allora utilizziamo quelle strategie che pure Luisa, la potenza dell'anima nella Divina Volontà, che rende Dio un piccolo ucciullino, circuito d'amore, indifeso quasi, non si può sottrare, come ha fatto con Maria Santissima, quando lei ha detto scendi, verbo, incarnati, Dio non ha potuto resistere. E si è incarnato. Profeti, patriarchi, Mosè, compagnia bella, per migliene e migliene avevano pregato per l'avvento del Messia. Niente. Arrivata Maria Santissima, con i suoi giri continui nella creazione, con il suo ingaggiare gli atti della Divina Volontà nella creazione, quando raggiunse la pienezza della grazia, quando in sé aveva fatto talmente tanti giri, che aveva chiamato la Divina Volontà a venire a regnare sulla terra, a portare il Messia sulla terra, utilizzando gli atti in tutta la creazione, il padre ha detto oh, non possiamo fare più niente, va bene, sì, 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 scende il Messia, si fa fiat mi. Ecco, e quindi per ogni cosa creata poi andiamo a vedere che cosa possiamo fare, il nostro piccolo ti amo, il nostro ti faccio compagnia, il nostro se ti faccio compagnia ti racchiudo dentro di me, se ti racchiudo dentro di me, oh, tipo, se sei mio, se sei mio, io ti faccio fare quello che voglio, vengo al tuo regno. Il cielo, il cielo. perso. Allora. Posso dire una cosa? A me mi fa, cioè io non mi faccio gli atti, però mi fa, cioè ci sono troppe cose che io non riesco a stargli dietro, capito? Perché non, come pure gli atti di Gesù, sì, mi ricordo le cose principali, però tutte le cose io non me le ricordo. Nessuno se le può ricordare a me. Allora, siamo, allora, proprio per questo stiamo facendo questo, questo giro. Allora, se sembra che prendiamo tante cose, se sembra che prendiamo tante cose, in realtà noi non stiamo prendendo niente, però il bello della divina volontà è che in qualunque posto ci mettiamo, anche se un'arma di centro nella divina volontà, Gesù, ti amo nel cielo, vieni divina volontà, vieni divina volontà nel cielo, forma tu il cielo in me, tu hai fatto tutto, 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 il fatto è completo, ti trovi nel cielo e siccome la divina volontà è la stessa nel cielo, è la stessa volontà, è la stessa volontà. Allora, facciamo un esempio. Anna, ciascuno di noi ha una volontà umana, va bene? Allora, se io potessi con un mio trucco, una mia magia, un mio potere speciale, entrare nella volontà di ciascuno di noi, di ciascuno di voi, io potrei dire, io ho le mani concerte, ho le mani concerte e sto indossando una giacca blu, io sono seduta e adesso sto strizzando gli occhi, sto avendo quel pensiero che stai avendo tu, sto versando anche delle lacrime e tra l'altro anche fame e voglio fare questo. Allora, tutti gli atti interni ed esterni, nascosti o visibili che voi stiate facendo, io li sto facendo, sono atti miei, sono atti miei. C'è completa identificazione dei nostri. Quello che non è possibile tra volontà umane, perché sono volontà separate, è possibile nella divina volontà. Allora, quando io mi trovo in un atto della divina volontà, siccome è volontà unica, io sto facendo tutti gli altri atti, niente escluso, non unita tutti gli altri. Tutti, tutti gli altri, li fai tutti contemporaneamente. Allora, quale deve essere il mio unico desiderio? E dico, io entro nella divina volontà. Più ci sentiamo, immagina Anna se tu dicessi, guarda, io sono così brava nel mio giro che riesco a fare tutti gli altri contemporaneamente, poi c'è una tale scioltezza di linguaggio, una tale padronanza, una tale intelligenza, che io il creato te lo prendo così proprio. Allora, se una creatura, diciamo, ha questa attitudine, allora fa orrore alle cose create. Allora, se noi invece ci mettiamo al nostro posto, che è quello di dire, ma noi siamo minuscoli, siamo niente, però con la potenza di una volontà divina che regna in me, se io col mio balbettio principiante, commettendo, guarda, io ho le potenze della mia anima, l'intelletto, poco sviluppato come ce l'ho, la memoria, ah, inizia pure quella a fare acqua, la volontà, a volte vacilla, però con tutto il cuore mi metto nella volontà di Dio a fare questo giro e ci provo, anche facendo il mio piccolo sforzetto. Questa è la cosa più grande, è la cosa più grande e potente che racchiude tutti i giri fatti insieme. Questo è quello che faceva Luisa, Luisa mai si sentiva arrivata. Luisa ci aveva meno della prima elementare, per questo Dio ci ha messo Luisa come modello della divina volontà, per questo Gesù l'ha messa inchiodata a letto per 40 anni, così a noi non ci viene il sospetto, la tentazione di dire io devo essere intelligente, devo essere di un ordine religioso, devo poter viaggiare per conoscere le cose, devo avere contatti con le persone, no, 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 non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno proprio di quello che c'hai tu in questo momento, del nostro sentirci nulla, tu c'hai questo in questo momento, hai tutto quello di cui hai bisogno, tutto quello di cui hai bisogno, tutto, tutto, perché la divina volontà può regnare nel nulla, infatti manca a farla apposta, l'atto di cielo è proprio un atto della divina volontà in cui noi entriamo in questo atto, va bene, l'atto della immensità, l'atto del vuoto, vuoto completo, vuoto completo, il cielo in sé dice è immenso, se noi guardiamo, se noi potessimo guardare nella nostra anima, il nostro corpo è limitato nel tempo e nello spazio, se noi potessimo guardare all'interno della nostra anima che è fatta niente po' di meno che accogliere un Dio infinito, se noi potessimo vedere l'abisso, l'immensità che c'è qui nella nostra anima, altro che galassie, altro che universi, su un buchetto nero a confronto, abbiamo un'immensità qui dentro, noi siamo stati grati per Dio, per accogliere il Dio vivente, quando riceviamo Gesù, Gesù non si può comunicare ad un animale che non lo può contenere, Gesù ha bisogno dell'infinità e l'infinità è l'anima, l'anima infinita e Gesù si comunica perché in quest'anima è infinita ed ha una potenzialità infinita, nel senso che si espande ancora di più, allora la capacità che abbiamo dentro di noi, altro che prima elementare, piccolo intelletto, abbiamo un abisso dentro noi infinito, tanto che questo cielo qui, il cielo proprio naturale che vediamo, che con i telescopi vanno lì, hanno trovato un'altra galassia, questo non è un universo, è niente, è peggio, è più piccolo di un... niente, di uno spazietto, di un bicchiere, niente. Entriamo nell'atto dell'immensità, atto di immensità che è contenuto nel cielo, è l'atto di Dio che ci dà un'immagine di questo atto attraverso il cielo, questo atto è l'atto della sospensione completa, del vuoto completo, del distacco, del distacco. Allora, quello che vogliamo fare, dice, volontà divina, tu, innanzitutto, nelle cose create fai un sacco di cose, noi adesso ne possiamo andare a prendere una, due, per questo lo dobbiamo continuare a fare sempre, questo giro, che adesso noi stiamo prendendo proprio i granelli, i granelli, se noi continuiamo domani, dopo domani, tra due anni, tra tre anni, tra cinque anni, ci rincontriamo, mamma mia, quanto più ci siamo arrotiti. Allora, diciamo, oggi che cosa possiamo vedere nella divina volontà? L'atto del cielo è l'atto del distacco. Con l'impostazione che abbiamo avuto in questo giro, di dire Gesù viene a formare il cammino delle virtù, il cammino della perfezione e della santità nell'anima mia attraverso le cose create, iniziamo a vedere qual è la prima lezione che dà Gesù a Luisa nel volume 1, distacco da tutte le creature. E come per dire, il primo atto che Gesù vuole mettere nell'anima di Luisa è l'atto di cielo. Senza il vuoto non si può iniziare a mettere niente. Allora, prima di tutto, prima di essere pia, prima di essere umile, prima di essere bella, prima di essere bella spiritualmente, prima di essere santa, prima di essere... Io devo essere niente, devo essere vuoto, così come era vuoto l'universo prima che si pronunciasse il fiat. Da principio, volume 1, il Divin Maestro pose mano a sfogliare il mio cuore da tutte le creature. Io sono tutto il bello che merito di essere amato, vedi? Se tu non togli questo piccolo mondo che ti circonda ad intorno, cioè pensieri di creature, immaginazione, io non posso liberamente entrare nel tuo cuore. Questi discorsi ti riempiono la mente di cose che a me non appartengono. Il distacco insegna a Gesù il distacco da tutte le cose, da tutte le creature. Allora, noi entriamo nella Divina Volontà, dice Divina Volontà, riconosciamo quest'atto di immensità, quest'atto di cielo, quest'atto di vuoto assoluto nel cielo, dice Divina Volontà, vieni a formare il vuoto in me, vieni a togliere queste catene dei miei attacchi alle creature, degli affetti umani, delle relazioni disordinate, del confronto con le altre creature, del pensare che è più santo di me e che è meglio di me, del pensare che fa sto gruppo della Divina Volontà piuttosto che un altro, del pensare, ah vedi, oppure tutti gli attacchi che possiamo avere alla nostra salute, alle cose materiali. Divina Volontà, abbiamo bisogno di quest'atto di cielo, vieni a sgombrare, cioè cielo bello, cielo santo della Divina Volontà, aiuta, cioè tu sei così bello, ci dai l'idea di questo vuoto, di questo distacco, non solo di idea, tu ne sei l'atto operante, vieni cielo, vieni in me a formare il canovaccio della santità, del vivere nel Divinvolere. Il cielo ce l'abbiamo, io vedo cielo, io vedo cielo, vedo cielo, vedo cielo, vedo cielo, vedo cielo, vedo cielo, vedo cielo. La Divina Volontà ci sta già trasformando, senza che noi ce ne accorgiamo, mamma mia, quante catene, quante pietruzze, quanta polvere, via, 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 ah, adesso, stelle, ecco, adesso che la Divina Volontà ha creato il cielo in noi, noi stiamo facendo questo giro, lo stiamo facendo proprio, questo non è un modello, un esempio, un modello attivo, un atto che stiamo facendo, più potente di questi atti è impossibile, stiamo facendo questo giro trasformante nella Divina Volontà, in modo che tra, quando abbiamo finito, saremo eternamente diversi, saremo stati trasformati completamente, quando lo rifacciamo, saremo ancora diversi. Dopo che abbiamo il vuoto all'interno di noi, ecco, la Divina Volontà vuole come, così come nella Genesi, adesso creò il vuoto, iniziò a mettere le stelle, questi punti, si formarono queste nebulose e si formarono queste sfere, queste sfere che girano e senza toccarsi hanno delle loro traiettorie e sono raggruppate in alcune speciali costellazioni. Certe si muovono nello spazio, questi sono i bambini che saltellano nel prato, alcune vanno zigzagando così, altre sembra che si scontrano e poi cambiano direzione, altri invece sembra che hanno una coda di fuoco, sono degli scapigliati con queste comete che vanno in giro, altri invece sembra che vanno pianino, pianino e tutte queste stelle nel cielo formano l'armonia delle sfere, tra di loro cantano insieme e fanno questa armonia, che bello, che bello questa armonia, bella stai Gesù la sera quando i suoi se ne andavano a dormire e li copriva con un po' di paglia assinché non si raffreddassero e poi lui si metteva e diceva, mi faccio detergere dalle stelle. Gesù aveva accumulato la vicinanza e tanta tanta sofferenza dalla vicinanza di tanto peccato, aveva guarito nello spirito e nel corpo tante persone, tanto che i lebrosi della pelle per lui, quella lebra non era niente a confronto della lebra dell'anima con cui era stato a contatto e aveva risposto a delle domande che l'avevano messo nel tranello ancora una volta, visto la falsità delle persone che lo avvicinavano per interesse, lui sudava freddo, sudava freddo la sua anima pura, 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 santa, 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 era inorridito dal peccato e la sera quando finalmente poteva venirse al padre, lui sentiva l'esigenza di immergersi nella purezza e dove la trovava padre mio, detergimi, detergimi con il tuo amore e stava lì sotto il cielo stellato e chi è magari a 30, 40, 100 km se lui stava in Giudea, sua madre stava in Galilea, Nazareth, chi era quell'altra creatura che dal terrazzo della casetta di Nazareth stava lì ad unirsi a Gesù in quegli altri? Madre Santissima, Nazareth dormiva e lei stava lì e si riposava, si riposava. Gesù ci vogliamo unire a te in questo atto, formano il vuoto del cielo e crea in noi adesso delle costellazioni, delle stelle, mettici le stelle. Ecco, le stelle che cosa sono? Sono l'inizio delle virtù che Gesù vuole mettere in noi, le virtù, le virtù sempre. Vedevo, Luisa, volume 18, 6 dicembre 1925, vedevo il cielo stellato e il mio amabile Gesù ha ripreso il suo dire, figlia mia guarda il cielo che ordine, che armonia tra le stelle, una stella non può stare senza dell'altra, sono tanto vincolate insieme che una sostiene l'altra, una è la forza dell'altra. Se mai sia una sola stella si spostasse dal suo posto, ci sarebbe tale scompiglio e disordine nell'atmosfera che passerebbe pericolo che tutta andrebbe rovina, sicché tutta la bellezza del cielo sta riposta nello stare ognuna al suo posto, nell'unione comune, nella forza di comunicazione attrattiva che hanno tra di loro, che più che elettricità le tiene sospese, separate e avvinte tra di loro, la santa distanza tra le stelle. Ecco, adesso possiamo vedere le stelle, le virtù, in diversi modi diversi, così almeno inglobiamo in noi diversi atti, diversi atti trasformanti. Vediamo innanzitutto come si possono raggruppare queste stelle. In tante costellazioni, così come c'è la costellazione di Orione, il Carro Grande, Aldebaran, le Pleiade, l'Orsa Maggiore, sono questi gruppi, questi grappoli di stelle. Così pure le virtù sono raggruppate tra di loro. Infatti, nei volumi iniziali di Luisa, ecco, non vediamo spesse volte come dice, ecco, la pazienza genera la perseveranza finale, la giustizia, la semplicità, la verità, le mette insieme in modi quasi che noi non ce li possiamo immaginare, cioè ma che fanno insieme questi gruppi di virtù messi insieme ti danno un risultato speciale. Allora, per esempio, andiamo a vedere alcuni esempi di costellazioni virtuali. Costellazioni, gruppi di virtù, gruppi di stelle virtuali, non perché non esistono, ma perché sono di virtù. Costellazioni virtuali vuol dire gruppi di virtù messi insieme. Così come c'è praticamente le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, così Gesù mette in noi le tre stelle. Queste tre stelle insieme, questa è una costellazione che anziché chiamarla l'orsa maggiore si chiama la teologica, la teologica, ed è composta da tre stelle che si chiamano fede, speranza e carità. Allora... Ma esiste veramente? O nell'anima? Esiste in Milano. No, per te lo dico non esiste in Milano. Esiste, esiste. Ancora più veramente che se ci fosse una costellazione chiamata. Cioè, volevo sapere se erano... Esiste veramente. Nessun astronomo l'ha vista, ma esiste veramente. Queste sono costellazioni spirituali. Ma perché spirituali? Ancora più reali e vere delle costellazioni materiali. Di quei... Sono costellazioni spirituali, ancora più vere delle costellazioni che si devono guardare col telescopio. Sono costellazioni... Dio purissimo spirito, ed è l'unica... Allora, perché? Perché noi sappiamo che nelle cose create, nelle stelle, le stelle contengono degli atti di volontà divina. Allora, siccome Dio vuole creare le stelle, il cielo stellato in noi, queste stelle, le stelle che sono atti di diverse virtù, le diverse virtù con cui vuole adornare il nostro cielo. Allora, ogni stella è una virtù. E qual è il gruppo di virtù più importante di cui abbiamo bisogno per credere in Dio, per avere la speranza ed amarlo? Le virtù teologali. Allora, in noi esiste una costellazione di stelle che si chiama costellazione teologico-teologale. La fede, la speranza e la carità. Poi, per esempio, ma queste costellazioni ce ne possiamo inventare a bizzzef? Voglio dire, ma lo so, in uno dei volumi di Luisa, per esempio, nel volume 3, mi ha compito questo gruppo di virtù che Gesù mette insieme e dice il passaporto celeste. Qual è il passaporto per avere anche la beatitudine in terra? Questo passaporto porta le tre firme, la firma dell'umiltà, della rassegnazione e dell'obbedienza. Allora, è come se Gesù mette insieme queste tre virtù, queste virtù messe insieme, formano un'altra costellazione. Allora, io voglio avere questo passaporto in me per avere la beatitudine anche in terra. Allora, in me c'è anche, voglio avere la rassegnazione e l'umiltà e l'obbedienza, così come interagiscono tra di loro in quel modo speciale per farmi avere questa beatitudine anche in terra. E allora io questo la posso chiamare il passaporto celeste. Ma non è che, voglio dire, questi sono degli esempi, degli esempi di bambini da un anno. Poi uno come indovine l'ha di una cosa. Ma certo, certo, certo. Per dire, queste, giusto per dire che così come in cielo esistono le pleiadi, così nel cielo ancora più infinito, ancora più vero, eterno della nostra anima, perché lì ci sarà un calaclisma, prima o poi le stelle faranno cozza tra di loro, Big Ben ha detto stop e la creazione materiale avrà compiuto lo scopo per questa capatta e ritornerà in Dio. Ma la nostra anima è eterna. Allora le costellazioni materiali, alla fine spariranno come delle biglie, ma le costellazioni delle virtù dell'anima ancora più reali sono eterne, sono eterne. Allora prendiamo spunto proprio da questi atti che vediamo di tutte queste stelline che stanno unite tra delle belle stelle, delle stante stelle. Come siete belle tra di voi, muovete e ma non vi cozzate. Una è luce dell'altra, una è supporto dell'altra. È vero, perché ho bisogno della fede. Ma se la fede non è nutrita dalla speranza, come faccio ad avere fede? Come faccio di io credo in Dio, ah Dio sta lontano, ma se non spero che Dio lo posso avere anche io, che credo a fare? E più spero, ah io lo posso possedere questo Dio, e più lo amo. Allora la carità è il nutrimento della fede e della speranza. È la sostanza della fede e della speranza. Allora queste virtù che stanno insieme, ecco per me sono come delle stelline che devono stare sempre insieme e le devono sempre brillare. Immagina se nel cielo della nostra anima la stella della fede si spegne. Cataclisma! Si spegne la stella della fede, la stella della speranza di che cosa deve sperare? Non è niente più da sperare. Cade, pum, non ha più il sostegno. L'amore si spegne. Cataclisma, fine del mondo. No, no, no. Allora le stelle devono sempre brillare dentro di noi. Allora chiediamo a Gesù, diciamo Gesù, così come ci stanno tante costellazioni in cielo che io non me le so neanche immaginare, ancora di più ci sono tutte le virtù della pazienza, della fortezza, della semplicità, della verità. Tutte le virtù, la santa obbedienza, la santa umiltà, che sono come tante stelline con cui tu vuoi adornare il mio cielo. Dico, vieni volontà divina, vieni a formare il cielo stellato in me. Ecco. Tra l'altro possiamo vedere le stelle non soltanto come ogni creatura è un cielo stellato che ha tante virtù e tante stelle, ma possiamo anche pensare in una maniera un pochettino diversa. Per esempio, che ogni creatura ha una stella diversa. Allora, così come dentro di noi dobbiamo avere l'armonia delle virtù, l'armonia delle virtù che sono le stelle, così se noi vediamo che per esempio ogni creatura ha una stella diversa, dobbiamo renderci conto che i nostri rapporti tra creature devono essere proprio ispirati, devono essere modellati al rapporto che le stelle avranno tra di loro. Ecco, questo è il nostro modello. Allora, le stelle che fanno? C'è la stella di una costellazione che dice, no, voglio prendere il posto tuo, voglio fare l'ufficio che stai facendo tu, impossibile, oppure ecco ti voglio toccare, boom, se una tocca l'altra, forza centrifuga, centrifuga, tutti i campi elettromagnetici, succede un pasticcio. Tra le stelle c'è una luce di una che diventa luce dell'altra, la forza del moto di uno, che diventa il sostegno dell'altra. Si sostengono, si illuminano a vicenda ma non si toccano. Allora impariamo dalle stelle quale deve essere il rapporto tra noi creature, la santa distanza. E dove lo possiamo trovare questo rapporto perfetto tra le creature? Nella divina volontà. Nella divina volontà qualsiasi atto una creatura fa, l'atto interno che tu stai facendo perché è animato da una volontà divina e questa volontà divina è la stessa volontà che anima il mio atto. Io posso dire con assoluta certezza che sto facendo l'atto che stai facendo tu, è atto mio. Allora vedi che l'atto che stai facendo tu mi sta dando la vita? Perché io sto facendo un atto, è un atto di vita, la vita è costituita da una successione di atti. Allora respira che mi dai la vita, pensa che mi dai la vita. Fai un atto interno, quest'atto interno che stai facendo tu mi sta arricchendo perché è atto mio, lo stai facendo con la volontà divina. Sì, è atto mio, perché la volontà divina è mia. Scusa, e quelli che non stanno nella volontà divina anche per loro è vita? Se noi li mettiamo nella volontà divina, ecco, ecco, per le creature che non stanno nella volontà divina, che non vivono nella volontà divina come vita, è come se loro stanno al di là, di questo schermo, di questa comunione di volontà. Quindi non arriva il mio atto. Il tuo atto, sì, sì, il tuo arriva. Loro ne partecipano per quanto disposizioni hanno, però il tuo atto, più lo fai, più ti fondi con Gesù. Ecco perché usiamo Gesù. Gesù è in comunicazione con tutte le creature. Allora Gesù, tu sei in comunicazione con tutte le creature. E io ricevo la vita e do la vita e sono in comunicazione con tutti gli atti della divina volontà. E siccome tu stai dando la vita a queste creature che anche se vivono fuori della tua divina volontà, non la ricevono come vita, però ricevono il mantenimento. Nel senso che la divina volontà sempre regna il loro, regna con un regime inferiore. Il regime del comandamento, seppure viene rispettato. Il regime della grazia, seppure quell'anima in grazia. Se quell'anima non è neanche nello stato di grazia, vive con un regime chiamato proprio, ecco, occhio per occhio, detergente per niente. Passivo. Sta soltanto lì come una schiava, la volontà divina, a far respirare questa creatura, a darle la voce con cui questa creatura si serve della voce per bestegnare. Pingi. Pingi. No, avevo chiesto di aprire un brincelino, scusate. Scusate. Ho chiesto di aprire un brincelino perché non c'è l'ossigeno. Oh, oh, abbiamo il cielo della divina volontà, abbiamo dei rivedi subito, ci fa sentire l'esigenza dell'ossigeno. 75% dei nostri corpi sono ossigeno, la nostra anima è tutto ossigeno divino al momento, perché abbiamo un cielo immenso, abbiamo iniziato a mettere le costellazioni, abbiamo bisogno di espandere questo cielo, e quindi abbiamo bisogno d'aria. Abbiamo. Volete chiudere del punto che ne ero un po'. Passati qua, passati qua, passati qua, passati qua, ma basta aprire un po' meno. Non è freddo, vedete io. Non è freddo, 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 è freddo. Si può dire Marina che Dio crea in queste creature che non vengono di volere un respiro divino, fatto, respirando nella divina volontà, no? Sì, ecco, queste creature ricevono, non lo ricevono come vita propria, però il nostro atto di girare nella divina volontà e di volerlo fare in nome di tutte le creature è un atto che dispone le creature a ricevere. Più lo facciamo e più questo atto conquista conoscenza, conversioni, pentimento. Sono questi gli atti più potenti, più che andassimo a predicare, fare le crociate, dove... no, più facciamo questi giri nella creazione, che facendolo per noi lo facciamo anche per tutti, più, ecco, più abbiamo quest'umiltà per dire qual è la cosa più importante che posso fare in questo momento per il regno del divinvolere? Sono questi atti. Qual è la cosa più importante che posso fare per la diffusione del regno in questo momento? Sono figlia del divinvolere. Allora, insieme a tutti i nostri atti esterni per diffondere le verità, teniamo presente che questi atti interni hanno una potenza dispositiva, di disposizione, sono senza confine, raggiungono tutti e li dobbiamo utilizzare come tale, riconoscerne la potenza. Allora, dicevamo, le creature in cui la divina volontà regna come propria vita, con il regime come in cielo così in terra. Ognuna gode dell'atto dell'altro, ognuno sta facendo l'atto dell'altro. Allora io posso dire con certezza che sto facendo l'atto vostro, perché voi lo fate con la stessa volontà che anima il mio atto e voi state facendo l'atto mio. Voi state parlando, io sto ascoltando, tutto. E tutti noi riceviamo il bene, anche il merito divino di questi atti divini, indipendentemente da chi li sta facendo in questo momento in modo naturale nello spazio del tempo. Tutto in comune, completa comunione di bene. Se la volontà divina non regna come vita, allora io mi metto al di fuori di questa comunione di bene. Ecco per questo i nostri atti servono a guadagnare più figli antivi in volere, perché come li facciamo? La divina volontà viene chiamata a regnare, allora crea le circostanze perché sempre più creature vengono ad entrare in questa comunione di bene e riconoscano la divina volontà e la facciano regnare in loro, non soltanto come amara medicina, come rassegnazione, come grazia, come abbandono, oppure come in modo umano, dicendo adesso Dio per te faccio questo, faccio questa, ma come vita, proprio come la divina volontà che fa gli atti suoi nella volontà di questa creatura, come vera e propria vita. Secondo il regime come in cielo, così in terra. Allora, chiediamo alla divina volontà adesso di continuare il nostro giro, abbiamo visto balbettando proprio i rudimenti, il niente di quello che riusciamo a fare noi, l'atto del distacco, l'atto delle virtù e diciamo divina volontà viene a continuare a questo giro e viene a mettere tante virtù. Ecco, questi collegamenti tra le varie stelle sono proprio l'esempio di come ciascuno di noi è una diversa stella. E allora, nella divina volontà, anche se siamo stelle diverse, siamo tutti collegati, ognuno sostiene l'altro, ognuno a luce dell'altro, ma ognuno deve stare al suo posto. Se io volessi, ah guarda questa stella sembra che brilla di più, io ci voglio stare, sarebbe un macello per tutte le altre, per me e per tutti. Allora, qual è la cosa? Se io sono chiamata ad essere madre di famiglia e a lavare i pavimenti tutto il giorno e io faccio questo mio atto nella divina volontà, io sto al mio posto e grazie a questo atto qui, questa stella può stare al suo posto, tutte ricevono il beneficio del mio atto. Se io dico, no, adesso lascio la famiglia, mi voglio iscrivere all'università e voglio fare un corso di teologia perché devo andare a predicare il Vangelo per tutto l'universo a orbe. Questa è un'intenzione pia umana, però dico, è l'atto che la divina volontà vuol fare in me? Se no, allora questa stella qui diventa buia, non soltanto, ma non può dare più luce a sostenere le altre. Allora, stiamoci al nostro posto dove ci mette Dio, facciamo tutti i nostri atti, facendo il nostro atto, in qualunque posto ci troviamo, ci troviamo nel centro, siamo nel centro del trono di Dio e tutti dipendono dal mio atto, tutti dipendono dal mio atto, tutti pendono dalle mie labbra, tutti pendono dal mio respiro, il Papa prende dal mio respiro, lo devo fare nella divina volontà, se no il Papa non può fare il suo lavoro. Allora prendiamo questo atto dalle stelle che dicono Dio mi ha messo qui, io sono la codina del piccolo carro, sto lì, se non facessi il mio ufficio divino, regale, insostituibile, sarebbe un macello. Allora tutti mi ringraziano, tutti prendono dal mio atto, eternamente voglio continuare a fare il mio atto, il mio ufficio nel regno della divina volontà. Facendo questo ufficio sono sostegno all'ufficio di tutti e mi trovo nel centro, faccio gli atti di tutti, gli atti di tutti. Che bello di vivere in volere qualsiasi cosa l'anima fa, sta facendo tutto il resto, tutto il resto, niente, nessun atto è tenuto al di fuori, l'anima partecipa di tutto. Cioè vivifica nelle stelle, il mio atto vivifica nelle stelle, brilla nel sole, spira nel vento, tutto. Dio dove si volta e si gira, diciamo, Anna che dite, Anna, Anna, Anna sta respirando d'amore per me, dove si volta e si gira, in questa creatura, in questa creatura io la devo ricambiare, a questa creatura gli dà una grazia. Sento il palpito di Anna dentro di me che dice, ti voglio, ma allora mi dà una grazia. Sento il palpito, sento il respiro di Anna, nel cielo, nella luna, nelle stelle, ma io in tutto il creato ho questa creatura, ma la trovo dentro e fuori di me, è inseparabile. Lei è atto del mio atto, dovunque opera la mia volontà lei c'è, dovunque va la mia volontà lei c'è, qualunque cosa sta facendo la mia volontà lei c'è. Eh ma, non me la posso separare, è vita mia, è vita mia, è atto mio. Chi può separarci dall'amore di Cristo? Nessuno. 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 Vita mia e di tutto il creato. È atto mio, è atto mio, vita mia. Perché? Perché sto respirando nella divina volontà, mi costituisco atto di ogni atto di creatura, è di ogni cosa creata. È la vita del centro, è l'atto primo, la vita della figlia della divina volontà è la primogênita. E da lei centro, che cosa significa? Cioè, cosa significa? Nel centro della Santissima Trinità, da cui parte tutto. Avanti a tutti, avanti a tutti. Dice il signore della parola, avanti a tutti. Questo è mio attacco, sono andata a cercare cosa significa, avanti a tutti sono i primi vuol dire, gli altri dati a me sono i primi. Sì. Immagina quanto posso dire il creatore quando trova l'ostacolo delle creature che non conoscono questa divina volontà, si sente soffocare, si sente impedito in tutto praticamente. E la stessa cosa un po' pure noi, no? La avvertiamo poi. Perché quando veniamo a conoscenza della divina volontà, sentiamo questa necessità di che le altre creature anche la partecipino o di partecipare. Adesso, prendiamo spunto dalle stelle, impariamo dalle stelle. Ogni stelle è attentissima alle altre. Allora, siccome noi riconosciamo la divina volontà operante in noi, quando una creatura parla, siamo tutti attenti a sentirla. Allora, lei stava parlando, scoltiamo tutti quello che dice, non ci incrociamo con le conversazioni, riconosciamo e adoriamo la divina volontà. Altrimenti che facciamo? Neghiamo la divina volontà alla gloria, diciamo voglio ignorare quest'atto della divina volontà, sta parlando di una creatura, mostriamo la venerazione che abbiamo tra di noi, con l'ascoltarla, così pure nei nostri scenacoli. Quando una creatura parla, tutti gli altri ascoltano. Prego. Ah, sì. L'ordine della divina volontà in tutta la creazione, tant'è vero che la creazione, che la passione di nostro Signore Gesù Cristo, che andrà a vivere nella liturgia della Chiesa alla settimana, non è altro che l'immagine della passione che la divina volontà soffre in tutto il creato. C'è una passione, un'agonia della divina volontà, così come la divina volontà agonizza nel verbo incarnato, così, in stesso modo, la divina volontà agonizza nel cielo, è la stessa volontà agonizza nella luce. Allora, come noi l'abbiamo riconosco, ti riconosco, volontà divina, ti riconosco nel cielo, tu sei volontà mia, agiamo insieme, fammi cielo come te. Oh, che bello, gli spezziamo questa agonia di essere torturata, di essere negletta, di essere misconosciuta, di essere ignorata, di essere calpestata, perché l'uomo va sulla luna, ecco, io vado sulla luna, che fa? Il Dio gli mette quel poco di scienza per riuscire a costruirsi una navetta, arrivare lì, e l'uomo si crede chissà che cosa, che ha capito della luna? Nulla. Muore? Nulla. Adamo aveva bisogno di andare sulla luna? Adamo la possedeva la luna, Adamo la dominava la luna, Adamo possedeva la luna, la luna stava lì, aperta per, ci arriviamo all'atto di luna, la luna, divina volontà, che cosa fai nella luna? Che ora, la luna che brilla, che è presente nel cielo quando tutto è silenzio e notte, ci dà, ci presenta una qualità, un attributo speciale dell'amore di Dio, che è l'amore nascosto, l'amore vigile, l'amore dolce, l'amore perseverante, l'amore di sacrificio, l'amore che persevera, l'amore che incoraggia. Sembra che la luna, quando noi camminiamo nella notte del peccato, del dolore, la luna ci incoraggia e ci dice sicuramente il sole sorgerà, vedete, io brillo della luce del sole, se il sole non ci fosse, vedete che è notte adesso, però vedete, io vi do l'immagine che il sole c'è, il sole non tarderà. Allora con me, camminate, questa notte, l'alba non tarderà. Allora questo atto di luna, questo atto di dolcezza, di sacrificio, perché lei si sacrifica, sta lì tutta la notte, mentre di notte si pecca, di notte si dorme, la luna sta lì che veglia per tutti, che ripara per tutti, che adora per tutti. Non ci fa sentire l'atto di luna, l'atto materno di Maria Santissima, l'atto di nostra madre Santissima, l'atto dell'amore più puro, l'atto materno, che è amore di sacrificio, amore di nascondimento, amore di perseveranza, di veglia, amore che si sacrifica per tutti, amore che indica, la mamma indica sempre Gesù, fate quello che lui vi dirà, ci porta sempre da Gesù. La luna trae a sé, ma soltanto perché lei punta al sole, quando il sole sorge, ne sparisce. Allora quanto è bello questo atto di luna, la prossima volta che vediamo una luna, come questa luna, vediamo una luna necce, che è bello questo atto di luna, questo è l'atto mio, è l'atto mio che è bello, di una volentadina a fare in me questo atto di dolcezza, di pace, voglio essere madre a tutte le creature, metti in me questo amore materno, questo amore che desidera sempre mormorare preghiera, che non si stanca mai, che vuole sempre attendere il sole della divina volontà. Allora questo è un atto di luna, e la prego, prego. Nella comunità dei santi c'è un continuo partecipare a questa volontà divina? Certo, certo, i santi partecipano della volontà divina, perché è l'atto in cielo, ma il bello del vivere nel vivolere è che siccome adesso creature in terra vivono della stessa volontà di cui vivono in cielo, si aprono dei nuovi canali per i santi con cui, ecco, possono andare a fare la volontà divina e ricevere la volontà divina così come la fanno e la ricevono in cielo. C'è la partecipazione anche delle sofferenze quando Gesù non può agire su una creatura, magari? Ecco, noi abbiamo un vantaggio rispetto agli angeli santi, perché loro non possono più soffrire, nel senso che la loro preghiera, il loro ardere per la conversione, il loro accorarsi per le creature, non può essere mai scostato da una beatitudine infinita, immensa. Il privilegio che noi abbiamo adesso in terra rispetto ai santi è proprio quello che noi possiamo soffrire, possiamo unirci ad un atto conquistante, allora così come gli angeli santi partecipano al nostro atto, così come hanno sofferto in terra, nella loro visione beatifica partecipano al nostro atto di sofferenza. Cioè noi ci possiamo legare alla croce di Gesù, in questo pellegrinaggio sulla terra? Certo, e ripetere anche noi le sofferenze dei santi che hanno patito sulla terra, anche se loro hanno patito quelle sofferenze nella loro umana volontà, perché non erano a possesso di queste conoscenze, noi lo possiamo fare per loro e loro ne ricevono gloria aggiuntiva, come se lo avesse fatto nella divina volontà, tutto si mette in comune. Ci sono questi vasi comunicanti tra cielo e terra, in cui la divina volontà mette tutto in comunicazione. Per chi gli scelti che i santi prendono, acquistano nuove conoscenze per ogni atto che la creatura c'è a fare nella divina volontà? Sì, sì, perché tutte le conoscenze che loro non hanno avuto in terra sulla volontà, la beatitudine non è altro che la conoscenza della volontà di Dio. Allora, tutto ciò che noi acquistiamo di conoscenza sono come dei semini adesso, anche se noi adesso in terra non ne possiamo godere appieno sensibilmente della beatitudine, perché altrimenti ne scocchieremo di gioia e non potremmo vivere, però sono semi che sono in noi. Quando passiamo in cielo, in un istante vanno a scoppiare e ci faranno eternamente morire di amore, morire di gioia, morire di felicità. Allora, più atti facciamo, più conoscenze acquisiamo, ma conoscenze semplici, quelle che facciamo non quelle oriudite, non quelle che ci sembrano non alla nostra portata. La verità è semplice, Dio è semplice. Allora, più beatitudini godremmo nel cielo. E allora, non soltanto noi, ma anche i santi e gli angeli che in terra non hanno avuto queste conoscenze, vedendo queste nuove conoscenze che si manifestano sulla terra e vengono tradotte in atto, come lo stiamo facendo adesso, vedono questa nuova conoscenza attualizzata, siccome l'atto viene fatto da una volontà che è divina e loro vivono della stessa volontà, loro stanno facendo quell'atto e quell'atto è fonte di nuova beatitudine, quell'atto è fatto grazie a una nuova conoscenza acquisita in terra e a loro, come parassiti divini, ne ricevono tutte le beatitudine da vita. Adesso continuiamo nel giro e facciamo sorgere il sole che non ne può più, può ne sorgere. Ecco, il sole che, ecco, adesso stamattina avendo fatto il nostro atto preventivo, con l'atto preventivo il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti e quante il sole è il relatore, è l'altoparlante della divina volontà, il sole è proprio il relatore perfetto, è l'atto che più di tutti ci fa vedere e sentire sulla nostra pelle e constatare dagli effetti che il sole produce la potenza della divina volontà, è l'unità della luce della divina volontà. Quanto più spesso giri nella mia volontà per ripetere i tuoi atti, tanto più grande si forma la rotondità del globo di luce e quanta più forza di luce possiede, tanto più si possono stendere i suoi raggi che devono illuminare il regno del fiat. Allora più ripetiamo questi giri, questi atti e più la circonferenza del sole si espande in noi. Ogni atto, preghiera e pena che l'anima fa entrare nella luce della mia volontà diventano luce e forma un raggio in più nel sole dell'eterno volere. Ogni atto tranne il peccato? Sì, ogni atto fatto nella divina volontà, nella divina volontà. Nella divina volontà il peccato non c'entra. Sono due cose completamente diverse. Peccato, che vuol dire? Sì, il peccato lo produce l'umana volontà, quindi la divina volontà lo distrugge. Sì, sì. Noi siamo lontani, circondati da questi atti, siamo lontani, così lontani dal peccato, come lontano il cielo dalla terra, siamo nell'assoluto ambiente, nella sfera della sicurezza. Più ci chiudiamo, più ci facciamo circondare da questi atti, che diventano poi i nostri garanti, i nostri difensori. Luisa una volta disse, ecco io vedevo i giri e gli atti che avevano fatto, e questi atti si mettevano intorno a me, perché sono atti viventi che non finiscono più, sono atti, sono vite divine. E dico, questi atti sono atti che continuano per l'eternità, e si mettevano intorno come dei soldatini, la proteggiamo noi. Allora, questi atti che stiamo facendo, noi ci stiamo, ci sta formando per noi un esercito vivente che ci protegge. Allora, moltiplichiamo questo esercito con armi divine. Gli atti poi, gli atti stessi, sono grati alla stessa creatura, ci portano nuove conoscenze, ci difendono, ci arricchiscono, ci trastullano, ci fanno riposare, ci guidano. Questi sono gli amici nostri, i fratelli nostri, i padri nostri. Questa è la vita nostra, gli atti nella divina volontà, quanto sono belli. Ecco, adesso fermiamoci un attimino, così almeno continuiamo questo giro, poi alla fine, dopo un po' se ci sono domande, così, se penso che... Allora, ecco, il sole, quando parliamo del sole, mamma mia, qua in realtà ci sarebbe tanto da dire che possiamo fare un'unica cosa, restare mutoliti. È il sole della divina volontà. Come iniziamo a parlare del sole? Pure Luisa, mi ricorda Luisa quando, mi pare così, all'inizio del 25, lei nel 1928 venne portata nel convento delle suore del divino zelo e lì le venne data una stanzetta dove lei stava vicina al tabernacolo, vedeva Gesù nel tabernacolo. Queste suore avevano il cortile e diceva Luisa, guarda, era la festa, sembra l'8 ottobre, il santo, il 7 ottobre. Il 25 diceva Luisa, vuoi uscire un po' a prendere il sole, un po' di sole, guarda che bella giornata, allora la mettono sulla sedice e Luisa, oh Dio Gesù, tu me ne hai dette tante del sole. Io so, era così emozionata, era così emozionata, adesso mi faccio baciare dai raggi di questo sole, perché lei ne aveva sentite tante, era tante volte andata a cercare la volontà divina nel sole, sentiva l'atto palpitante del sole, diceva Gesù, ecco esco fuori e si sentiva invasa dai raggi del sole e dice, oh sentivo il bacio della divina volontà nel sole. E quindi, ecco, per noi la divina volontà che ci bacia nel sole, che ci ama nel sole, che ci produce infiniti effetti nel sole, che ci dà proprio l'esempio lampante di come la divina volontà fa un unico atto, luce, luce, luce calda, luce infuocata. E questo atto produce effetti infiniti, è feconda, migliaia e milioni di tonnellate di messi. E porta, e girando intorno con i moti dei pianeti, la rivoluzione del sole, il moto del sistema solare, porta l'avvicendamento delle stagioni, porta infiniti effetti, tutto il bene, la purificazione, la nostra pelle diventa più liscia, più divida, più colorita quando ci mettiamo nel sole. Ecco, quanti benefici effetti. Il sole fa un atto solo, che lo guardiamo, che lo pensiamo, che lo ringraziamo, lui continua, dice io mi do a tutti, faccio il mio atto. Questa è l'anima che vive nella divina volontà, fa un atto solo, che vuol dire fa tutti gli atti messi insieme. E se riceve ingratitudini, se è considerata, se è visibile, se è invisibile, non importa, io faccio il mio ufficio nella divina volontà. Questo è il sole del divino volere. E questo sole ci dice pure che, ecco, l'unità della luce, dovunque c'è luce, questa luce non la possiamo dividere. Allora, la luce che illumina questo pezzo di questo cerchio qui, è la stessa luce che non le posso separare, è una luce compatta, indivisibile. Ecco, quindi il fatto che la luce sia compatta, indivisibile, ci dice quanto gli atti nella divina volontà sono tutti compatti, indivisibili tra di loro. Allora, io se ne faccio uno, li faccio tutti. Se sto qua, sto pure lì, perché tutto è luce. Se sto nella teriferia, sto anche nel centro, che è il centro del sole. Quanti mi scatti, abbiamo visto i pastorelli di Fatima, con il sole proprio, la bellezza del sole. Facendo gli atti nella divina volontà, a me mi è capitato. Sì. Il sole, il sole. Sì, sì. Andiamo avanti, così poi alla fine mettiamo tutte, penso che è meglio così, andiamo con lo svolgimento, sospendiamoci un attimo. Ecco, l'interminabilità di luce, un atto solo, inseparabile, indivisibile, tutte queste sono le proprietà della luce, dell'unità della luce. Questa luce investe tutto, investe tutto, non è che possiamo dire a sto raggio di sole, no, scusa, lascia un pezzo di buio, no, lui investe tutto e incorpora tutto. Così pure l'unità della luce, della divina volontà, investe tutti gli angeli, i santi, dovunque sta la divina volontà, tutto è investito. Dovunque si fa un atto nella divina volontà, lì è presente la divina volontà, investe tutto e incorpora tutto, tutto incorpora. Allora stare nella divina volontà vuol dire stare nell'unità della luce. Possiamo immaginare che la Santissima Trinità ha il centro, il suo trono nel centro del sole e insieme alla Santissima Trinità, facendo un atto nella divina volontà, ci troviamo al centro di questo sole, così come ci troviamo nella circonferenza e così come ci troviamo in ogni raggio, perché la luce è unica, è indivisibile, è compatta. L'unità della luce della divina volontà, che ci viene proprio manifestata, trasmessa nel sole, è la verità più bella del vivere nel divinvolere. È proprio l'atto unico che possiamo carpire, possiamo immergerci, ci facciamo eglissare, ma ci ammutolisce. Allora, ecco adesso ci sento un po' in... vogliamo fare una pausa? Sto facendo l'attrice della divina volontà, non possiamo interrompere questo giro, se vogliamo fare una pausa, facciamola, però facciamola in silenzio. Facciamola in silenzio. Facciamoci bruciare, facciamoci penetrare dai raggi del sole e della divina volontà. Adesso io mi voglio un attimino godere la scena, perché sto vedendo un cielo bello, tersissimo, immenso, stupendo, con tante stelline, belle costellazioni, vedo l'umiltà, vedo l'amore materno, la fede, la speranza, la vera, il cielo stellato. È una luna così perseverante, che mormora continuo amore, è questo cielo stellato. Lo vedo, è bellissimo, non mi puoi negare questa vista, è mio. Ecco. E lo vedo dappertutto, allora io me lo voglio vedere, e la divina volontà se lo sta godendo in ciascuno di noi. Madre Santissima, sei tu che ci stai conducendo in questo giro, noi non ce lo siamo dimenticato, tu con il tuo amore materno, con il tuo amore nascosto, sei tu presente qui che stai facendo l'atto in noi, che ci stai guidando piccoli, bambini, inesperti, piccini, nel giro della creazione, ci stai dando tanti di quegli atti, questo cibo divino ce lo stai imboccando proprio, dal tuo seno materno. Allora Madre Santa, noi ci sentiamo bruciati proprio da questo sole della divina volontà, ci sentiamo trasformati, ci sentiamo fatti più belli, più santi. E io vedo tanta bellezza, tanto amore. Ecco, grazie Madre Santissima, che così come tu dici, il Santo ha fatto prodigime, Santo è il suo nome, sia gloria alla volontà di Dio, gloria alla santità del divino volere che si sta trasmettendo in noi, ci sta trasformando, grazie a questo giro nella divina volontà che continueremo a fare per sempre. Allora Madre, aiutaci, aiutaci, dacci la forza, dacci la forza anche perché noi siamo creature ancora qui sulla terra, il nostro intelletto, la nostra memoria, la nostra volontà, abbiamo bisogno che tu ci carichi le pilette, ci dai il respiro, il riposo, il vigore, la freschezza. Allora ci riposiamo in te e preghiamo un'ave insieme agli angeli e ai santi e te la vogliamo pregare come la prima ave che si è pronunciata in cielo. E l'ave che pronunciò è l'arcangelo Gabriele nel momento dell'incarnazione. e con questo intendiamo rinnovare l'atto dell'incarnazione e adorare la volontà di Dio nel verbo fatto carne. Recitiamola insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, per i fratori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Amo. Ah, grazie mamma. Allora, dobbiamo continuare, mamma, aiutami. Allora, andiamo, continuiamo un'altra. La Divina Volontà vuole ancora mettere qualcosa in noi. Eh, lo sa che ci sta tirando, ci sta strizzando, ci sta aprendo, ci sta inspanendo, come Gesù dice a Luisa Allungati, 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 così sta dicendo pure a noi. Ci sta proprio, ecco, mettendo alla prova la nostra capacità. E come noi ci sentiamo di non poterla contenere, nello stesso tempo ci sta aumentando la capacità. Se ci sentiamo un pochettino stanche, se ci sentiamo che non abbiamo potuto ritenere tutte quelle cose, il segno è perfetto. Se vi sentite così, esattamente come ci dobbiamo sentire. Vuol dire che la Divina Volontà sta operando. Ecco. Ah, e vabbè, qui abbiamo bisogno di un mulino a vento. Abbiamo bisogno di un vento, vento divino. È un vento, tanti venti ispira la Divina Volontà. È un vento di cui abbiamo bisogno è un vento impetuoso. Vento impetuoso che, ecco, se dopo il nostro atto preventivo, il nostro umano volere, ha portato delle nuvole di turbazione, di scoraggiamento, di pensiero di noi stessi. Diciamo, ma io posso vivere nella Divina Volontà? Via! Ma io, ecco, come farò a fare questi giri? Via, via! Il vento impetuoso della Divina Volontà spazza via tutte le passioni, tutte le nuvole dello scoraggiamento, delle debolezze umane, dei nostri vizi, delle nostre cattive abitudini. Diciamo, vieni, vieni, impetuoso vento della Divina Volontà. Spazza via tutto, spazza via tutto. Congela il fuoco delle nostre passioni, congelaci, di modo che noi, ecco, diventiamo talmente impassibili che ci facciamo completamente trasformare dalla Divina Volontà, da questo vento impetuoso. Abbiamo bisogno anche di un altro vento. È così, un vento freddo, che se ci sentiamo ardere da tentazioni, da passioni, da vizi, questo vento, ancora più dell'acqua, spegne tutto immediatamente. L'atto della Divina Volontà, chiamato vento, che sulle volte noi sentiamo sulla nostra pelle e con i nostri sensi, questo atto presente nella creatura vento, è proprio quest'atto di Volontà Divina che vuole spazzare via tutto quello che forma le nubi umane. E' l'atto del vento dell'atto attuale. Ci ricordiamo l'atto preventivo che abbiamo fatto? Con l'atto preventivo il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti, come se fosse un solo atto. Però, che cosa succede? A volte succede che l'atto preventivo può essere ombrato, oscurato, dai modi umani, dalla stima di sé, dalla negligenza, dall'umano volere, che formano come nubi, tanti nubi, innanzi al sole, che rendono la sua luce meno vivida sulla faccia della terra. Allora entra in campo l'atto attuale. L'atto attuale, invece, no, non è soggetto a nubi, anzi, a virtù di scacciare via le nubi, se ci sono, ma con tale potenza, dal far sorgere nuovi soli, con tale vividezza di luce e calore, da far sorgere tanti nuovi soli, uno più bello dell'altro. Però, figlia mia, dice Gesù, entrambi sono necessari. L'atto preventivo, quello iniziale, stamattina, la decisione ferma e convinta di voler mettere a costo della morte ogni atto nella divina volontà. Entrambi sono necessari. Il preventivo dà la mano, tira su, forma il piano all'attuale, gli forma il canovaccio, forma proprio il cielo, il vuoto di tutto, l'atto preventivo che abbiamo fatto all'inizio, in cui può sorgere il sole. L'atto attuale conferma e espande il piano del preventivo. Allora, quando c'è qualche nube dell'umano volere, che sembra, quando c'è qualche nube dell'umano volere, che sembra quasi voglia rendere meno vivida la luce del mio sole, allora ci dà l'opportunità, ecco, ci dà la consapevolezza. Ehi, divino volere, io voglio che tu regni, via via, vento impetuoso della divina volontà. Io confermo e espando il mio atto preventivo. Quindi, quello che dice Gesù nel suo passo, sull'atto preventivo e l'atto attuale, l'atto attuale, che è quello che è in mezzo alla nostra giornata, quello che facciamo adesso, ci sono un po' stanchi, un po' ciai, ecco, porta via le nubi dell'umano volere, della debolezza, della natura, e fa risplendere il sole ancora più splendente di quello di prima. Quindi le nostre debolezze benvenute, perché ci danno anche l'opportunità di moltiplicare i nostri atti attuali. Ecco, se noi ci sentissimo, sempre così, ecco, saremmo talmente cristallizzati, beatifici, che saremmo così presi in noi stessi, nella nostra luce, che saranno così, nel bel estate, invece no. Gesù qui ci vuole a pedalare, ci vuole anche a soffrire, ci vuole a macinare, ci vuole a fare nuovi atti, allora l'umana natura è solo ancora più bello. Un'altra debolezza, l'ho fatto di nuovo, perché non riesco a smettere di fumare, ci provo ancora, voglio dire. Oppure, ecco, qualsiasi altra cosa. Abbiamo bisogno di ancora altri venti. Il vento dell'amore divino, vento caldo, come il vento, non lo so, del mare, lo scirocco, ecco, non so come si chiamano. E non riesce a creare gambe, sì, ecco. Ecco, però noi ci mettiamo in riva al mare e godiamo anche di questo vento, questo vento appena appena un po' caldo e ci porta i baci, i baci dell'amore di Dio. Magari può sembrare che un impegno si cancella. Dice, figli miei, figli miei, vi sto riempiendo di atti che vi stanno trasformando talmente tanto. Allora, quello che dovremmo fare, non so come dice, entrate nella nostra cameretta, riposarci o andarcene al pincio, o starcene a casa nostra, o andarcene di pronta a un tabernacolo, o semplicemente sederci senza fare niente, così, e dire sì, di volontà, vieni, vieni, vieni a continuare quest'opera, grazie di volontà, ma hai fatto un uomo nuovo, un'anima nuova. Adesso voglio continuare a ripetere questi atti, vedi che bello, sento già la familiarità con questi atti, sono atti miei, adesso sono degli amici, siamo una compagnia, ecco, il sole, la luna, il cielo, le stelle, stiamo facendo lo stesso atto con loro, posso dare luce, posso dare vento impetuoso alle creature, posso dare vento fresco alle creature. Ecco, passo nella metropolitana e vedo tante creature, tante volte perse nell'umano volere. Ecco, l'esperienza, per esempio, di andare in metro, ma da tanto tempo, tante persone, tante persone, diversi colori, diversi modi. Ecco, se vedo delle persone che sembrano così, magari, emarginate, oppure io gli faccio un sorriso di sole splendente di volontà divina, queste persone si sentiranno conquistate, quest'atto di volontà divina, ma si sprigiona in una maniera talmente potente che glielo va adottare a tutte le creature. Queste sentiranno, dicono, ma che c'è, stasera vanno a casa, qualcosa di diverso in me stasera. Noi non lo sapremo su questa terra, però succede. E allora, facciamolo girare, facciamolo girare questo giro, come noi lo continuiamo, così lo diamo a tutte le creature. Ecco, impariamo, impariamo anche a starci in compagnia di questi atti ed a godere della loro compagnia. Impariamoci a starci soli, anche con gli atti che stanno nella divina volontà. Ecco. Godere la loro compagnia, sentirci, sentirci a posto, sentirci pieni di questi atti, così non abbiamo bisogno della compagnia della tv, come la sentivamo ieri, magari. Non abbiamo tanto bisogno di, ecco, di tante conversazioni, di tante cose, se no io voglio adesso, voglio immergermi in questi atti, voglio sentire la loro compagnia atti belli, adesso siete immensi, siete i miei difensori, non vi lascerò mai. Continuiamo, dice, Pianontà divina, vuoi portare il vento impetuoso che mi scuote dall'etargo della mia umana volontà, il vento freddo che congela il fuoco delle mie passioni che ancora ribolliscono, il mio risentirmi, il mio essere permalosa, ma permalosa di che? Ma la volontà divina opera perché il sole se la prende se uno non gli dice grazie continuamente, eppure matura, vivifica, feconda, fa bene a tutti. Io voglio fare l'atto di sole, vieni volontà divina, con il tuo vento freddo smorcia il fuoco delle mie passioni, con il tuo vento caldo infiammami a di amore divino. Ecco, un vento rinfrescante, un vento rinfrescante porta a me un atto nuovo, fammi sentire creatura nuova, creatura fresca, creatura di primavera, ecco adesso a marzo e vediamo che tutto si rinnova nella natura, la nostra anima, il nostro essere, noi siamo, abbiamo 15 anni? secondo il calendario naturale ce ne abbiamo 40, ce ne abbiamo 75, ce ne abbiamo 68, non fa nessuna differenza quello che è la volontà divina, vede in noi una neonata nella divina volontà, alimentata da questo vento fresco, una bambina, più bambina dei bambini che stanno adesso correndo la maratona oppure giocando nel parco, ancora più bambini. Il bello è che poi, ecco, il mondo, il mondo con le sue leggi, il mondo dell'umano volere, il mondo, come dire, quando noi ci distacchiamo dal mondo, pur vivendo, facendo i nostri atti, il nostro ufficio, però diciamo, sappiamo che la felicità non ce la dà il mondo, il mondo stesso, più avanziamo nell'età, e meno si aspetta da noi, oh che bello, più, 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 ecco, più, ecco, ci vengono i capelli bianchi, iniziano le rughe, oppure, ci sentiamo meno attraenti, colpiamo meno, ecco, vediamo i cartelloni pubblicitari, dice, ci sono questi canoni di bellezza che sono così differenti, diversi, che bello, il mondo mi ha dismesso, non si aspetta più niente da me, non mi fa più nessuna pressione, che bello, adesso non si aspetta niente da me, invece gli posso dare tutto quello che ho, e posso vivere libera, 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 finalmente, perché non ho, non ho più, perché, perché il mondo dice, ormai tu sei in età pensionabile, ormai tu, oppure, hai fatto la tua vita, oppure non devi fare, oppure, niente, dice, adesso, mi posso concentrare, posso vivere la vera vita in Dio, posso essere la vera neonata, posso essere la vera creatura, giovane, fresca, bella, vigorosa, energetica, neonata, ma, ma più dei neonati, che stanno nascendo in questo momento, al gemello, o partoriti, eh, dal ventre di una madre, sentiamoci così, ecco, in questa comunione di atti, noi possiamo dare tutto al mondo, e il mondo non ci può dare niente, niente di quello che noi già non abbiamo, il mondo non ci può dare niente, perché non abbiamo bisogno di niente, ecco, ci rendiamo conto come la vita dell'anima che, la vita dell'anima che vive nella divina volontà, è una vita fatta nascosta in Gesù, noi ci riempiamo di Lui, riceviamo questi atti, lo seguiamo nei giri, ci facciamo condurre la nostra Madre Santissima, ci riempiamo di questi atti, e poi, sito in silenzio, usciamo fuori, nessuno lo sa, nessuno lo sa, nessuno se l'immagina, che vedono, e vedono, per quanto mi riguarda, ecco, la divina volontà, è talmente felice, talmente gioiosa, di questa comunione, di atti che stiamo facendo, che non può fare a meno, di lanciare i suoi figli, in questo giro, che entrano anche con le loro voci, con la loro presenza, ci chiamano, e anche in modo naturale, visibile, percepibile, con i nostri sensi, con la nostra natura, il contento della divina volontà, e la comunione, dei santi e degli atti, nella divina volontà, Sor Franceschina, sta facendo questo giro, insieme con noi, perché lei vive di questa stessa volontà, questi sono gli atti, questi sono gli atti, che le sta facendo, certo, bene, allora, con questo animo, con questo vento rinfrescante, vogliamo portare sollievo, anche a tante anime affrante, a tante anime, che si sentono, così oppresse dal mondo, che domanda tanto, domanda tanto, ed è spietato, è spietato il mondo, è spietato, perché devi produrre le cose, che fanno piacere al mondo, se non produci le cose, che fanno piacere al mondo, secondo i canoni del mondo, secondo le economie del mondo, sei un oggetto, che sei inutile, e allora, il mondo che ha queste leggi atroci, e di morte, noi vogliamo portare, nella metro, in tutte le case, dove ci sono persone sole, dove ci sono persone affrante, dove ci sono persone scoraggiate, che si sentono abbandonate, questa voce del divino volere, che dice, ma no, tu sei vivo, io ti amo, sei una bimba fresca, neonata, la vita è in te, come adesso cominciasse, ecco, portiamolo questo atto, perché milioni di persone, in tutti i continenti, in tutto l'universo orbe, in tutte le generazioni, hanno bisogno di questo atto rinfrescante, di questo atto che porta alla nuova vita, e così pure quando noi ci alziamo, in un nuovo giorno, ecco, domani, dopo domani, dicono, che bello, oggi sono più giovane, che bello, oggi rinasco, oggi rinasco ad una nuova vita, che bello, oggi sono più felice di ieri, e sono ancora più felice dell'altro ieri, e domani sono ancora più felice di oggi, che bello, allora, quest'atto rinfrescante, accettiamo ancora nuovi atto di vento, nella divina volontà, così, la prossima volta che lo sentiamo, anche il nostro respiro, il vento sulle nostre guance, anche quello che ci raffredda, quello che ci fa caldo, riconosciamo questo atto, e non diciamo, oh, c'è troppo vento, ma ci riconosco, vento di volontà divina, cioè accetto per il lavoro che stai facendo, dentro e fuori di me, perché tu contieni un atto, questo atto, io lo voglio fare mio, così, mi costituisco vento, in ogni creatura, vento impetuoso, vento rinfrescante, vento caldo, e anche, ecco, una dolcebrezza, una dolcebrezza di quelle che appena percettibili, come quella che sentì Elia, quando stava nella caverna, lui voleva a Dio, era scappato, quello lo volevano uccidere, si vanno lì a nascondere, e dice, ma dove sta Dio, il tuo, ah, dove è il tuo, no, Dio non c'è nel tuo, è un incendio enorme, dice, no, non c'è l'incendio, alla fine un sacco di questi fenomeni, lui non sentiva Dio, alla fine stava lì nella caverna, e sentiva, ecco, eccolo, eccolo, e sente lo spirito di Dio, nella dolce, sottilebrezza, appena percettibile, che si sente nella pieta, nella calma, nel silenzio interno e anche esterno, noi possiamo sentire la voce dello spirito, che è il nostro compagno, lo sposo dell'anima nostra, che continuamente ci parla, ci parla, ci parla, ci parla, non la smette mai, è l'amico intimo, inseparabile dell'anima nostra, lo spirito santo, e allora se ci mettiamo raccolti in silenzio, ci vieni, vieni spirito santo, vienimi a parlare delle tue cose belle, ci vogliamo mettere nell'atto, di ricevere, proprio, la dolcebrezza dello spirito, che ci rinnova, che ci istruisce, che ci muove, che ci ispira, che ci trasforma, e questo è un atto, contenuto nell'atto di vento, atto di vento, una linea, allora, cominciamo a entrare nell'ordine delle idee, tutte queste cose naturali, non sono altro che delle immagini, in chimica, fisica, e termodinaca, in realtà quello che c'è dentro è un atto, è un atto, e noi questi atti li stiamo ricevendo, li stiamo usando, allora, Madre Santissima, chi meglio di te ci può, adesso, condurre, a fare un altro saltellino, plof, entriamo in un altro atto di volontà divina, chiamato, mare, in questo atto di mare, vediamo tante, che vediamo, Madre Santissima, tu, chi meglio di te, tu sei stata concepita, nei mari di potenza, di sapienza, di amore, della santità, tu sei stata concepita in un mare, hai vissuto in un mare, sei tu un mare, tu facevi come il mare, ci dice che, tenevi tutto nascosto dentro di te, tutti i segreti, la profondità della conoscenza, ecco, facciamoci accompagnare anche da Gesù, nell'atto di mare, novembre 1, primo novembre 1926, volume 20, poi ognuno avrà queste informazioni, per andarci a navigare, e ora figlia mia, scendiamo nella parte bassa della terra, portiamoci nel mare, dove sono ammantate, masse di acqua cristalline, atto della purità divina, allora, l'atto divino, della volontà divina, chiamato mare, è un atto di purezza, atto della purità divina, queste anime, camminano sempre, non si fermano mai, sono senza voce, e mormorano, sono senza vite, è forte, in modo, sono senza vita, è forte, in modo da formare tante, no beh, non vedo, da travolgere, e mettere in frantumi navi, gente e cose, e poi scendono nel loro lido, dopo che le hanno atterrate, e le hanno investite, pacifiche, come se nulla avessero fatto, allora vediamo anche l'atto di giustizia, il nostro moto eterno, che mai si ferma, e se la nostra giustizia, forma le sue onde giuste e fragorose, da atterrare città e gente, come mare pacifico, dopo la tempesta, la nostra pace mai è perturbata, così come pure Dio, purezza, quest'atto di purezza, lo troviamo nel mare, l'atto di giustizia, che sembra che vuole manda manda, un terremoto, un cantaclisma, ci sono tanti altri, oppure il mare si turba, però il giorno dopo, più pacifico di prima, allora pure noi, a volte sembra che, ecco, le acque si increspano, il mare della turbazione, quasi ci vuole travolgere, però, ecco, basta un nuovo vento di pace, che il mare si tranquillizza, diventa ancora più pacifico, del giorno prima, e dice, guarda, io non mi ricordo manco, che è successo ieri, non porto risentimenti, non ho memoria dei miei atti, non ho memoria dei miei malumori, niente, io so soltanto, che c'è un mare di pace, e quindi l'atto della divina volontà, chiamato mare, è un atto di pace, atto di mormorio continuo, il mormorio della tua preghiera, sia continuo, così come il mare mormora sempre, se le acque si fermassero, imputridirebbero, dice Gesù, fai fermare le acque del mare, tempo due giorni, e iniziano a puzzare, e così come abbiamo bisogno del moto, per la continua purificazione, così anche la nostra preghiera, deve mormorare continuamente, nella profondità del mare, in 20.000 leghe sotto il mare, c'è l'atto della sapienza, le cose più profonde, le cose più segrete, così come troviamo i tesori nel mare, oppure più si va giù, più si trovano quegli esseri viventi, che soltanto negli acquari di Monterrey, si possono contemplare quelle amebe, quelle meduse, che stanno lì, 30 km sott'acqua, e vivono tranquille, le barriere coralline, tutto così, noi scendiamo con le nostre bombole, piene di aria, di volontà divina, e vediamo tutti questi segreti, tutte le verità del vivere nel divinvolere, tutte insieme, tutte belle, tutte quante che muovono insieme, noi ci possiamo immergere in questo mare, che bello, abbiamo questo mare, a nostra disposizione, non dobbiamo andarci, a cercare la sapienza, che è nelle biblioteche umane, e la divina volontà che ci dà la sapienza, che ci può soddisfare, il mare, com'è bello, il mio e il tuo mare, così come Luisa, fondeva il suo maricello, nel mare di Maria Santissima, e nel mare di Gesù, oh come resta dietro, il mare della terra, il mare della terra, diventa, un piccolo ruscelletto, una pozzangherina, in confronto al mare, che la divina volontà, vuole formare dentro di noi, perché esso mormora, il mare della terra, ma non racchiude nel suo mermorio, il cielo, il sole, il vento, e tutto quello, che abbiamo fatto fino adesso, fatto, non visto, fatto fino adesso, è tutto, ma solo i pesci, invece il mare del mio volere, e il mormorio della tua preghiera in esso, quello che abbiamo fatto finora, racchiude tutte le mie opere, e quindi, adesso stiamo nel mare, però in questo mare, ci troviamo il cielo, ci troviamo le stelle, ci troviamo la luce, ci troviamo il sole, tutto quello che abbiamo fatto finora, è già presente nel mare, ecco vedi Anna, che ci troviamo nel mare, e abbiamo tutto il resto a nostra esposizione, tutto è incluso nel mare del divino volere, tutto tiene in sé, come nel suo proprio pugno, mormorando con la tua preghiera in esso, le trovi tutte, allora più, il nostro atto diventa incessante, più continuamente mormoriamo, stasera, domani, Gesù, metto il mio ti amo nel cielo, il tuo ti amo nel sole, il mio ti amo nel sole, nella luna, nelle stelle, e più, lo rendiamo continuo, questo mormorio, più questo mare, ci fa trovare dentro di sé, tutto, tutto, allora noi non possiamo mai, restare privati di nulla, ecco, grazie a volontà divina, che mi fai vedere adesso mari profondi, in tutte le creature, entriamo nella terra, ecco, perché la terra la vogliamo vedere così, tra tante sfere, questa terra, questa pallina, sospesa in mezzo a tante sfere, è stata scelta, in eterno da Dio, come la sfera, in cui il suo divino figlio, doveva andare, appoggiare le sole, dei suoi piedi santissimi, è qui, che nella Santissima Trinità, il figlio dice, eccego, mitteme, eccomi, mandame, nel concisoro, della Santissima Trinità, loro, al di sopra delle sfere, al di sopra dell'Empire, l'universo diventa una specie di piccolo giochino, vedo questa pallina chiamata terra, e dice, è lì, è lì che io mi incarno, e questa terra è resa pura, è resa fresca, è resa santa, perché è calpestata dai piedi dell'uomo Dio, è bagnata dal sangue dell'uomo Dio, quanto è bella la terra, che è bella la terra, altro che pianeti, dove stanno gli ufoci, la terra, allora, chiamiamoci come fa Giovanni Paolo II, baciamola, baciamola la terra, baciamola la terra, e dice, terra tu sei stata, io, ecco, io sono stata fatta dal suolo di questa terra, tu sei terra santa, sei terra pure, perché sei stata santificata dal sangue di Cristo, è qui che Cristo si è incarnato, ha calpestato questa terra, allora, la terra è il teatro della storia, divina, della divina volontà, ad extra, nell'umanità, la storia di tutte le umane generazioni che si compiono sulla terra, allora, riconosciamo l'atto della volontà divina, chiamato terra, che è un atto che ci sostiene continuamente, noi la calpestiamo, questa terra si fa serva, si fa schiava, si fa aprire, si fa ferire, si fa squartare dal bomere, dalla giuridia, giuridia, ecco, si fa spaccare, per piantare i semi, lei non protesta, anzi, si chiude, e soltanto quando il seme ha prodotto, è germogliato, allora si riapre per far uscire la pianta, allora, quest'atto di volontà divina, ci dice quante nomine la volontà divina, quanto si fa serva, quanto ci serve, ci sostiene, per venire qui, o con l'auto, o a piedi, pensate quante volte la terra ha sostenuto il nostro passo, è la volontà divina che ci ha toccato le suole, le nostre piede là, è viva, allora questa volontà divina, quante volte, è resa schiava, è una serva non nobile, ma schiava, torturata, calpestata, oltraggiata questa terra santa, quando viene calpestata da creature, che si incamminano per compiere il peccato, o che usano dei beni della terra per fare delle cose che sono contrarie all'ordine divino, allora ripariamo alla passione della divina volontà nella terra, e chiediamo di farci anche noi terra santa, così come siamo stati tratti dalla terra, dal suolo della terra, di renderci terra santa in cui la divina volontà può piantare i semi delle sue verità, amiamola la terra, amiamola tanto, perché noi siamo terra, noi siamo tratti dal suolo della terra, e il frutto della terra sono, ecco, tutti i frutti del regno vegetale, le piante, i fiori, e possiamo per esempio in questo momento, tra tutti i vari atti che la divina volontà fa in tutto, la prossima volta che entriamo in una frutteria, diciamo, ah, guarda quanto sono belli, questi bei peperoni rossi, verdi, gialli, stiamo noi lì a fare la spesa, li maneggiamo, questo sì, questo no, loro si lasciano, si fanno toccare, si fanno pesare, si fanno portare alla cassa, e quanto, quanto ci hanno vuole tutti quei antossidanti, quella bella vitamina C, tutte quelle cose belle che ci rendono vigorosi, che vogliono nutrire in modo bello il nostro corpo, si, tu belli, belli, rossi, gioiosi, sorrirono, tutta quella, quell'uva, entrando in una frutteria, è un tripudio di gioia della divina volontà, guarda quelle cicorie, quelle vietole che ci salutano, i funghetti, questo è banale, dolce, così, tutto, tutto, tutto col potassio, per chi vive la divina volontà, per gli anni che non traccia, le preghi, io, un giocciolo, qui siamo, facciamo noi questo atto, che poi la divina volontà lo estende a tutti, ecco, riconosciamo la divina volontà operante in tutti i nostri amici, fratelli, padri, cose create, in tutti i frutti della creazione, se vediamo nella Genesi, che cosa dice il padre? Dice, ti do tutte le piante che producono frutto, e tutti gli alberi con semi nei loro frutti, l'inserai come tuo cibo, allora, non la carne, scusa, non la carne, non iniziamo, diciamo, un discorso sul vegetarianismo, piuttosto meno, non è questa, diciamo, la sede, però ecco, ecco, rendiamoci conto, di qual è il cibo bello, cibo puro, cibo santo, delicato, che deve, che ci deve nutrire in modo forte, che ci dà vigore, quello che, quello che viene prodotto dal creatore ai creati, dice, lo mette su un vasso d'argento, non lo possiamo mordere, così come esce dalla pianta, così come faceva Adamo, così come faceva Adamo, allora, in questo modo, vedendo l'atto di liberontà, che vuole nutrire, non soltanto la nostra anima, ma rendere freschi, vigorosi, forti, anche i nostri corpi, ecco, vediamo, vediamo, questa gratitudine, anche, ecco, abbiamo un nuovo rapporto, con le cose create, anche con il mondo vegetale, che è veramente quello che ci vuole nutrire, che ci fa bene, allora, tra l'altro, tra infiniti atti, adesso potremmo stare lì, diciamo, tre ore, ad adorare la divina volontà operante, in una banana, cremosa, bella, dolce, simpatica, è così, è così bella, in una bella patata, così dal fuori della terra, se ne esce fuori, tranquilli, quanti begliatti, proprio Dio, c'è avuto una creatività, così, così infantile, così dolce, ecco, la cosa ci mette con tante fragranze, tante, tante consistenze, tanti profumi, chi più ne ha, più ne metta, a destra, a sinistra, proprio, dici, grazie volontà divina, che mi vuoi far vedere la molteplicità, la gaiezza, la dolcezza, il sapore, la varietà dei sapori, la freschezza, del divino volere questi, questi prodotti della terra, le piante, gli alberi, tutta la vegetazione, che ricopre, rigogliosa la terra, sono atti di volontà divina, ecco, e noi li possiamo, proprio fare nostri, nel senso, immagina che bello, se anche noi ci possiamo sentire, oh, un bel pomodoro, una bella arancia, ecco, così semplici, così dolci, così infantili, tutto abbiamo, da poter dare sapore, e freschezza alle altre creature, ecco, questi atti di volontà divina, li possiamo utilizzare come vogliamo, una piccola coccinella, che atto fai, divina volontà nella coccinella, ecco, più le andiamo a scorare, più ne andiamo a mettere il nostro piccolo diamo, più loro si aprono, e più, noi questi atti li facciamo nostri, ci trasformiamo, in queste cose create, tra l'altro vediamo come l'albero, è proprio, ecco, l'albero della vita, Gesù Cristo, nel paradiso terrestre, c'era proprio quest'albero, l'albero di Gesù, degli atti del verbo incarnato, di Gesù, a cui Adamo e Deva avevano accesso, per vivere nella divina volontà, ora, una volta che noi, ci togliamo, dal rapporto con la divina volontà, e disobbediamo, e facciamo il nostro umano volere, non possiamo più godere di questi frutti, dell'albero della vita, e che è successo ad Adamo, così come ai nostri corti, quando non ci nutriamo bene, ci ammaliamo, così pure le nostre anime, e quando non ci nutriamo dei frutti, dell'albero della vita, che sono gli atti di Gesù, appassiamo, diventiamo infelici, ci accartocciamo su noi stessi, perché non abbiamo il nutrimento, per le nostre anime, allora, nel vivere nella divina volontà, vuol dire proprio, avere un nuovo accesso, all'albero della vita, così come i nostri corpi, godono, della bellezza, del mondo vegetale, dei sapori, e del nutrimento, del mondo vegetale, così pure le nostre anime, godono dei frutti, dell'albero della vita, che sono gli atti di Gesù, ehi, ci dobbiamo affettare, ma lei è santissima, aiutaci, ecco, e adesso, adesso tutti gli animali, ecco, adesso ognuno di noi, per esempio, in modo tanto semplice, possiamo dire, ecco, divina volontà, voglio prendere, voglio ringraziarti, lodarti, nell'atto chiamato colomba, fai pure me, colomba di pace, a volte Gesù chiamava Luisa, tu sei la mia colomba, tutta pace, anche noi vogliamo essere la colomba di Gesù, allora diciamo, una volta che vediamo degli uccelli, nel cielo, una bella colomba, dice, colomba bella, colomba santa, in realtà stiamo parlando, alla divina volontà, nella colomba, vieni, vieni, vieni a fare l'atto di colomba in me, fammi la colomba di Gesù, oppure, nel leone, questo addirittura, lo vediamo nel volume 2, quando il leone, comincia a ruggire, dice, fate come me, creature, ruggite, quando le tentazioni, le passioni, vi vogliono, vogliono disturbare, la vostra piede, con il ruggito, della vostra preghiera, li mettete, se il nemico, si vuole avvicinare, basta un ruggito, di volontà divina, su, via, andato, sparito, senti, sei un vulcano, allora, volontà divina, fatti leone in me, viene a ruggire, con il ruggito, della preghiera, più ruggente del leone, ecco, così, quando il patetico, vuole avvicinarsi, non ci prova nemmeno, il canguro, fammi canguro, che io possa continuamente saltellare, da un atto all'altro, da un atto all'altro, senza mai fermarmi, fammi agnello, agnello, completamente abbandonato, alla volontà del padre, mitte, le cose create in Dio, quanti atti, quanti atti, vediamo come tutte le cose create, come tutti gli atti, presenti nella vita animale, sono atti di volontà divina, che devono essere atti nostri, ecco, l'atto leone, l'atto coccinella, l'atto cavallo, voglio galoppare, 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 percorrere tutti i sentieri della volontà divina, oppure sentirmi forte, vigorosa, nello spirito, per dire, chi mi può far male, sono furie, il cavallo, ecco, l'atto della volontà divina, che si fa vigore, che si fa dolcezza, che si fa abbandono, tutto, lo troviamo tutto nei nostri fratelli animali, che ci insegnano quanto bene a fare la divina volontà, loro la fanno nel modo più perfetto, allora se noi prendiamo queste lezioni da loro, queste lezioni viventi e trasformanti, finalmente il cagnolino che abbiamo, il gattino che abbiamo, loro, finalmente ti posso essere gatto, finalmente posso fare il compito per cui Dio mi ha dato a te, a me non mi serve tutto quel tipo gatto, tutte quelle fusa, quelle carezzine, quelle mantelline, io mi voglio far dominare da te, così come lo vuole Dio, allora imitami, il cane non c'ha mai una gattiva giornata, lui si alza ed è sempre pronto a fare, il gattino è sempre pronto a fare i suoi atti, il gattino si pulisce in continuazione, perché sa che lui si deve mantenere, allora se il gattino vuole mantenere pulito il bello che gli ha dato Dio, quanto di più devo mantenere io terza l'anima mia, che è eterna, anziché il bello del gattino, per il gattino tanto umile che si mette e si pulisce, impara da me, e noi stiamo lì, a dare il kit a gatt, a mettermi con la riva, il gattino va da perdere tanti, i figli ovi, ecco, e tanti altri atti, vedi, ognuno ne scopre uno diverso, vediamo allora la divina volontà, operante in tutte le creature, ecco, però non è che nell'uomo, anche nell'uomo, anche nell'uomo adesso, ecco sì, ecco, a proposito dell'uomo, ecco, il re del creato, il re del creato, allora, lo possiamo vedere come adesso? è proprio per lui, è proprio per me, è proprio per me che tutto è stato creato, vediamo come lui è al centro, e tutti, tutti gli animali gli stanno intorno, tutto il creato gli stanno intorno per servirlo, per porgergli quell'atto, quel canale di amore, di grazia, di comunicazione, di conoscenza, di virtù, che sono presenti in tutto loro, perché è proprio così che Gesù, che Dio ha voluto, dice, io creo l'uomo a mia immagine e somiglianza, e tutto il creato lo creo per servirlo, perché mi voglio comunicare a lui, lo voglio arricchire, attraverso tutti questi atti presenti nel creato. Allora, adesso, Madre Santissima, aiutaci ad entrare nel rush finale di questo giro, facendo adesso noi degli atti, adesso che cosa abbiamo fatto? In questa carrellata di tutte le pochissime cose create, ne abbiamo nominate, ma voglio esagerare, 50, ma voglio dire, tra gli animali cose, meno, anche meno, più quelle che non conosciamo, quelle che conosciamo, basta tutto, ecco, adesso entriamo, entriamo in quest'altra direzione del nostro viaggio, allora adesso, io ho fatto una carrellata di tutte queste cose create, ne posso pensare di più, mezzare di meno, addirittura ho seguito quasi un ordine, che è la progressione della genisi, da perfezioni minore a quelle maggiori, regni minerale, vegetale, animale, eccetera, eccetera, e adesso per tutte queste cose create, io lo potrei fare, questo che sto facendo adesso, per ognuna, allora quello che andremo a fare adesso, lo potremo ripetere, per il sole, per il cielo, per le stelle, per la luna, per il sole, per il vento, per il mare, per la terra, per le piante, per le animali, allora vediamo un po', quali sono gli atti che possiamo fare, quello che noi non comprendiamo, mettiamoci in ginocchio, e diciamo, divina volontà, illumina me, divina volontà, illumina me, allora sospendiamo il giudizio, sulle cose di Dio, perché non possiamo mai pensare, che Dio possa fare delle cose cattive, quello che è cattivo, e sembra cattivo, perché noi l'abbiamo talmente male utilizzato, da averlo distorto, o perché la nostra capacità non può comprendere questi atti, di armonia, di perfetta intenzione, quello che non comprendiamo, non lo scarpiamo, o diciamo, qui Dio si può essere sbagliato, oppure qui non vedo il bene, non vedo, piuttosto diciamo, vedi volontà di mina, tu adesso mi stai iniziando ad aprire gli occhi, su quello che fai nelle tue opere, alcune delle tue opere io non le conosco, alcune delle tue opere io non le capisco, qual è la soluzione? E la volontà di mina dice, vieni, continua, continua a visitarmi, continua, metti il tuo piccolo ti amo, vedrai che te lo farò sapere, magari questa spiegazione non la troverai nel National Geographic, ma te la dico io, te la suggerirò io nel cuore, e vedrai la perfezione, la bellezza, e l'atto, e la lezione della divina volontà, in ogni opera mia, in ogni opera mia, perché tutto è stato fatto per te, per un tuo bene infinito, non ti spaventare, non ti preoccupare di quello che non conosci, di quello che non capisci, ma come, con santa umiltà, ecco, comincia a riconoscervi, e vedrai, che le mie opere si manifesteranno a te, perché la mia volontà, altro non vuole fare che manifestarsi, in tutte le sue forme, come è presente negli atti della mia umanità, così come è presente negli atti di Maria Santissima, così è presente in tutte quante le altre opere, e che faccio, io devo disonorare Dio, disonorare, non permettere a Dio di comunicarsi a me, questo è disonorare, onorare, permettere a Dio di comunicarsi a me, se Dio si vuole comunicare a me, con tante sue opere, di una varietà incredibile, di diversi gradi di perfezione, che devo dire? No, questo non mi serve, scusami, allora, no, 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 Dio tutto è fatto per me, tutto, tutto, pure la meba, pure l'alga, il microorganismo, che sta adesso, 50 chilometri, sotto l'acqua, nelle fratture, nell'oceano pacifico, quella creatura, sta vivendo, sta nuotando, sta muovendosi, con un solo scopo, di portarmi nel punto, di fare la volontà divina, tutto si muove nella creazione, tutto gira intorno all'uomo, per condurlo all'uomo, al punto di vivere nella volontà di Dio, dove è stato creato? loro hanno un unico scopo, hanno un unico scopo, perché il guepardo sta correndo nella savana in questo momento, perché i leoni stanno barrendo, perché la gallina sta deponendo le uova, l'atto ultimo, lo scopo è di servire l'uomo, di tutti questi atti della volontà divina, in modo inscrutabile, imperscrutabile, servono e sono fatti per un unico scopo, di portare l'uomo nel punto unico, nel centro dove è stato creato. Allora, riportarlo, riportarlo. Grazie. Per tutti, tutte le cose create ci aiutano, tutte le cose create, e gli animali, e tutte le opere di Dio, ci stanno aiutando, ci vogliono aiutare. E allora, noi riconosciamo la volontà di Dio, nelle cose create, amiamo la volontà di Dio, non le cose create in sé, ma la volontà di Dio e queste cose create. Stavo pregando e fondendomi nel santo volere di Dio. Volevo girare dappertutto, fin nell'Empireo, per trovare quel Tiamo Supremo, che non è soggetto a nessuna interruzione. Vorrei farlo mio, affinché anch'io avessi un Tiamo non mai interrotto, che potesse farego col Tiamo Eterno di Gesù. e possedendo in me la sorgente del vero Tiamo, potesse avere un Tiamo per tutti. E giravo nelle opere della creazione. Ora, mentre facevo ciò, il mio pensiero mi ha interrotto, dicendomi, ma che fai? Potresti fare altro. E poi, che cosa è questo Tiamo? E il mio dolce di Gesù, muovendosi come in fretta nel mio interno, mi ha detto, che cosa, che granché è il Tiamo per me. Il Tiamo, il Tiamo che noi porgiamo nelle cose create, è rivolto al Creatore. Allora, Gesù si sente amato, si sente amato dalla Creatura, anche nelle sue opere. Gesù avrebbe potuto, Dio avrebbe potuto dare, lo dice nel volume 33, una volontà e un'intelligenza ad ogni animale, ad ogni pianta, ad ogni cosa creata. Per dire, vedi, vedi, ah, vedi, io ricevo direttamente dal sole che ha una volontà intelligente, questo sole dice, io ti do gloria mio Creatore. Allora, questo l'avrebbe potuto fare. Però, dice il mio amore, gridando più forte, dice, no, non lo farai, lo deve fare l'uomo. Allora, è nostro sacrosanto dovere, è nostro sacrosanto dovere, dare, prestare, una libera volontà intelligente anche alle opere del Creatore, cosicché le possiamo animare con la nostra volontà. E anche loro diventano opere parlanti, opere viventi, opere dotate di una libera volontà intelligente. e così Dio si sente veramente amato da tutto il Creatore. E l'uomo supplisce alle perfezioni inferiori delle altre opere, fornendo la perfezione della sua anima, che contiene l'intelligenza, la memoria, quelle prerogative che le altre opere nelle loro perfezioni inferiori non contengono. ecco per questo. E' un modo di pregare potente questo. Il ti amo è amore, venerazione, stima, eroismo, sacrificio, fiducia. Allora, se noi giriamo tra le opere del Creatore e mettiamo il nostro piccolo ti amo, quello che non conosciamo, quello che non conosciamo, mostriamo il nostro amore al Creatore, mostriamo la venerazione, mostriamo la stima, mostriamo anche l'eroismo, l'eroismo di uscire da noi stessi e di spendere il nostro triamo dovunque il nostro Creatore ha compiuto qualcosa. Mostriamo l'eroismo di distaccarci da noi stessi, anche dalle cose che conosciamo, di distaccarci un attimino dai nostri modi conosciuti e confortevoli di pregare per dire io ti voglio pregare come prega Cristo. L'eroismo di Cristo è sacrificio, fiducia, perché tutto vogliamo dare, tutto vogliamo dare a Dio, vogliamo dare tutto noi stessi e Dio lo vogliamo dare, non soltanto in nome delle creature ma anche in nome delle cose create. L'origine del ti amo è un'origine eterna. Il ti amo è infinito, è pieno di vita, di energia, non si stanca mai, supera tutto e trionfa su tutto. Nel ti amo il fiat eterno uscì tutta la creazione. Nel ti amo perdonò l'uomo colpevole e lo redense. è lo stesso ti amo, è lo stesso amore di Dio che creò, lo stesso amore di Dio che si incarnò, lo stesso amore di Dio che eredense, lo stesso amore di Dio che risorse. Allora questo amore non lo devo riconoscere in tutte le sue forme? so benissimo però che l'atto primo è l'atto dell'incarnazione del verbo perché è in Gesù che sto facendo quest'opera. È proprio perché l'ha fatta lui la ripeto io. Non soltanto poi questo, ma il ti amo ti dà il diritto di possesso. Come vado a mettere il mio ti amo sulle cose create? Così tutte le opere del creatore si fanno possedere e si rivelano per quello che sono. Si rivelano per quello che io adesso non conosco. Allora più vado a amare Dio nelle sue opere e più le sue opere mi svelano Dio. Mi svelano Dio. Allora non soltanto il ti amo ma dire Padre mio ti amo ma in queste tue opere ti faccio compagnia. Infatti i giri di Luisa nella redenzione, nella creazione, nella santificazione le dice inizio a mettere il mio ti amo nel sole, nella luna, nelle stelle, nei mari, nei mari, poi dopo un po' nel volumenenti comincia a fare delle cose nuove e dice ecco io adesso come se l'avesse acquistato un po' di confidenza ma quanti giri aveva fatto? Aveva fatto uno? No, migliaia. Allora iniziava ad acquistare questa confidenza e si sentiva talmente padrona delle cose create che dice adesso io padre ti faccio compagnia nell'atto di luna. Atto di luna. l'atto di luna è un atto chiamato luna che è amore materno voglio dire ti posso amare con amore di madre e in tutte le creature amore di immensità amore focoso nel sole in tutto il creato ti posso amare ti posso fare compagnia a quest'atto che tu stai facendo in tutte le tue opere lo faccio pure io a bene di tutte le creature tra l'altro quinto accesso nell'incarnazione del verbo non voglio essere solo voglio la creatura in mia compagnia questo è Gesù nel grembo di Maria Santissima che dice sono venuto sono sceso per fare per stare in mezzo agli uomini per dare loro tutto quello che faccio tutto quello che sono nel creare l'uomo non voglio essere solo ma voglio la compagnia della creatura in mia compagnia voglio crearla per trastrullarmi con lei per dividere con lei tutti quanti i miei contenti tieni compagnia alla mia sapienza tienimi compagnia in tutte le mie opere sento la compagnia del tuo sguardo del tuo ti amo la compagnia della tua voce ma sai tu il vero amore vuole la compagnia sai tu con chi vuole essere in compagnia della creatura oh come sono solo eppure in mezzo a tanti ah figlia mia ti prego ti supplico non mi lasciare solo in tanta mia solitudine dammi il bene di farmi parlare con l'ascoltarmi allora Dio ci parla in tutto il creato Dio ci parla in tutte le cose che Dio ha creato la voce del verbo che dice fiat lux quando il padre dice fiat lux e il verbo pronuncia fiat lux e come parola si fa atto nelle cose create è parola di Dio nelle cose create e io ricevo la capacità di riassorbire la sua parola in tutte le opere del creato la mia volontà non vuole restare sola nel suo atto vuole la compagnia dell'atto suo la mia volontà non si sentirà più sola nelle cose create volume 17 è proprio questo il vivere nel mio volere fare compagnia a tutti gli atti che la mia volontà fa essa non vuol vivere isolata in mezzo alla creazione ma vuole la compagnia della creatura e come fa le fa compagnia così le fa donazione di ciò che le manifesta e più che valida la scrittura è la stessa conoscenza che a caratteri di luce ha impresso nell'anima il possesso dei beni che la sua conoscenza contiene e quindi Dio vuole la nostra compagnia in tutta la creazione che è atto di volontà divina non la possiamo lasciare da sola questa volontà divina vuole la compagnia ora si entra nell'atto per imparare a farlo insieme a Dio allora non è soltanto Dio che guida da solo dice Dio insegna mi voglio anche insieme con te farmi atto di sole per il bene di tutte le creature atto sole vuol dire atto di amore potente atto di amore focoso atto d'amore che fa bene a tutti atto d'amore che foconda la grazia in ogni cuore è quello che faceva Gesù Gesù in sé conteneva quest'atto allora come ce lo deve spiegare questo atto ha fatto il sole per farci darci un'idea di che cos'è questo atto allora Gesù tienimi con te a fare insieme con te a bene di tutte le creature l'atto di sole non soltanto ti faccio compagnia ma come ti faccio compagnia ti posseggo allora ciò che appartiene a Dio appartiene all'anima e Dio può compiere in noi nuove creazioni spirituali nel momento in cui nel momento in cui possediamo e racchiudiamo in noi tutte le opere di Dio essendo avendo girato in tutti gli atti della volontà di Dio ecco Dio può vedere in noi ciò che vive in Maria Santissima una creatura completa in cui c'è tutta la creazione tutte le creature e tutto il creato e l'anima diventa la memoria vivente di tutte le opere del suo creatore come pure Dio guarda una creatura e dice ma a te non ti manca nulla trovo tutto trovo tutti gli atti della creazione trovo tutto il figlio mio trovo i mari d'amore di Maria Santissima non devo guardare da nessun'altra parte per deliziarmi delle mie opere guardo te trovo tutto allora così vogliamo essere vivente nella divina la memoria vivente di Dio la memoria come dire in me ho impresso come memoria attiva vivente tutto ciò che Dio ha fatto tutte le opere del creatore e adesso ecco avendo riconosciuto la volontà di Dio nelle sue opere avendo impresso il mio ti amo avendo fatto compagnia al creatore avendolo posseduto e addirittura internalizzato in me così lui guarda a me e vede un cielo stellato vede tutto vede tutte le sue opere adesso posso insieme a questi atti che sono miei fare quello che voglio e cosa voglio? venga il tuo regno posso ingaggiare la divina volontà presente nel verbo incarnato in tutti i suoi atti in tutte le sue opere e una sia la voce uno sia il grido una sia la volontà uno sia il comando imperante viene il volontario venga volontà di Dio in virtù di questi atti in virtù di questa potenza il Messia si potrebbe incarnare perché Maria Santissima fece questo in continuazione in nome di tutte le creature in virtù di questi atti di questo girare nella divina volontà in Gesù tramite Gesù girare per tutto il creato in questi atti che la volontà di Dio compie in tutte le sue opere ingaggiando tutte le opere dando intelligenza volontà voce udito memoria a tutte le cose create e Dio si vede assordato da un intero creato che gli chiede venga la tua volontà a regnare sulla terra e allora si aprirà il cielo e scenderà sulla terra non lo può negare e adesso la cosa più potente la cosa più potente che un'anima può fare nella divina volontà e addirittura nella divina volontà il creatore mette a disposizione della creatura la sua stessa potenza creatrice l'innipotenza di Dio che ha creato tutto questo per me mi mette a disposizione questa sua volontà questa volontà l'ho fatta mia e l'ho resa attiva operante l'ho esercitata sono andata in giro in tutte queste cose create ho iniziato a fare degli atti che mi hanno dato il tiamo incessante mi ha dato la conoscenza la compagnia il possesso il grido li ho fatti miei addirittura ne sono padrona posso adesso fare per Dio tutto quello che lui ha fatto per me e addirittura dice Gesù nella mia volontà l'anima può dire sole tu hai creato creato per me sole io ti do cielo stellato hai creato per me cielo stellato io ti do questo queste creazioni sono creazioni spirituali che sono di gran lunga superiori alle creazioni naturali delle cose che vediamo intorno a noi e come dare allora come dare al padre in noi nuove creazioni di umanità del figlio suo è come dire un'altra umanità di Gesù che contiene tutta la perfezione del creato in sé e la racchiude in sé la posseggo anch'io e con la potenza creatrice ne voglio creare una nuova perfetta immagine e sommianza e te la voglio donare e questo è lo scopo della Santissima Trinità è uscire fuori di sé perché così come la Santissima Trinità è uscita a creare fuori di sé per avere un'immagine perfetta di sé stessa fuori di sé deve avere una potenza creante che crea allora dà addirittura nulla della creatura la sua potenza creatrice per dire noi abbiamo creato tutto per questo nulla allora ti diamo questa potenza creatrice che fai? dai che fai? tutto creo e ti ridò allora con la potenza creatrice noi possiamo dare Dio a Dio possiamo dare Dio e tutto ciò che Dio è e Dio fa a Dio con la potenza non nostra ma di una stessa divina se la divina volontà ha creato non può continuare a creare per deliziarsi creazioni spirituali vuole continuare a creare per ricevere dalla sua creatura la gloria più grande non è per Dio io sono immenso c'è una potenza infinita per me non è tanto la gloria di pronunciare Fiat e di creare ma vedere quella stessa potenza creatrice operare in un nulla racchiudersi in un nulla di una creatura e fare uscire immensità cieli infiniti di immensità virtù infinite delle umanità del figlio mio costellazioni infinite di virtù infiniti soli amori dolcissimi di lune infinite fioriture belle di una terra pura e santa e tutto il corredo di tutte le mie opere farle uscire create da un Fiat pronunciato da un nulla per me oh Dio questo è lo scopo della creazione questo dà gloria a Dio allora sole mi hai dato sole ti do cielo mi hai dato cielo ti do prati fioriti mi hai dato prati fioriti ti do vuol dire immensità mi hai dato immensità ti do ardore amore divino fuoco ardore di carità increata mi dai quella ti do e noi la chiamiamo sole prati fioriti varietà di bellezza di virtù di santità di dolcezze di amore questo mi hai dato questo ti do tutto questo è racchiuso nell'umanità di Cristo lo voglio racchiudere in me come devo fare? lo devo andare a prendere per mangiarmelo così consento al creato di darsi a me di rinchiudersi in me la creatura che crea per il suo creatore è la copia perfetta del suo padre e creatore attenti però per prendere questo dobbiamo essere niente perché il tutto venga a creare a cosa nostra niente dobbiamo essere non ci abbiamo nemmeno proprio il niente il niente allora oh mio Dio mio creatore padre mio e vita mia in tutto in nome di tutti in ogni tua opera ti riconosco ti riparo per tutti ti amo c'è un crescendo di atti ogni atto si può dire a una perfezione superiore perché rinchiude i precedenti prima di tutto ti riconosco per chi non ti riconosce e riconoscendoti ti riparo per l'ingiustizia suprema del tuo essere non conosciuto ignorato calpestato dalle creature in tutta la tua creazione in tutte le tue opere e nell'umanità del tuo Cristo ti riparo per tutti e ti amo e come metto il mio ti amo tu ti manifesti a me allora ti faccio compagnia in quest'atto lo inizio a fare insieme con te quando lo inizio a fare insieme con te questo atto mi prendo talmente tanta confidenza che diventa mio allora ti conosco e ti posseggo se ti posseggo ti includo ti racchiudo in me se ti racchiudo in me ho talmente padronanza che ti faccio fare quello che voglio venga il tuo regno e creò per te allora che possiamo dire continuiamo questo giro continuiamolo continuiamolo nella creazione continuiamolo nella redenzione in tutte le opere e in tutti gli atti della divina volontà la divina volontà che si incarna che predica che soffre che risorge è la stessa divina volontà che opera in tutto il creato allora dovunque la divina volontà si trova di diritto e di giustizia vuole la compagnia della creatura io la devo riconoscere dappertutto e dovunque la riconosco se la riconosco in un atto tutti gli altri atti sono inclusi ma Dio vuole che io giri in tutti questi atti per poter fare tutte per poterli fare i miei poter arrivare addirittura a creare ciò che lui ha creato per me a diventare una creatura animata da potenza creatrice ma questa potenza creatrice ha suffragato dal fatto che io ho acquistato la virtù della potenza creatrice tramite la conoscenza tramite l'amore tramite il possesso tramite la compagnia e quindi più giro più amo più conosco più possengo più racchiudo più faccio più credo più realizzato allora quando noi vediamo d'ora in poi i capitoletti di Luisa che dice stavo facendo il mio giro nella creazione abbiamo adesso una fallidea di quello che lei faceva completato il mio giro nella creazione entravone nell'incarnazione negli atti della divina volontà e Gesù poi prende ogni volta spunto da quello che Luisa stava facendo per dare una conoscenza in più per dare una verità in più e allora ecco assumiamo i modi dell'anima che vive nella divina volontà e facciamoci circondare da questi atti e dire ecco la mia vita sia un continuo giro negli atti della divina volontà di modo che ci sembrerà impossibile vivere senza questi atti e farli continuamente invochiamo lo spirito santo e prima ancora di invocarlo segniamoci con con i segni della cruce per sigillare tutto questo questa giornata questo momento di preghiera nella volontà nella volontà divina nel nome della Santissima Trinità e ricordiamo sempre che il segno della croce una volta ecco leggendo un'altra mistica ne parlava come diceva Gesù diceva questo segno della croce che spesse volte diventa uno scaccia mosche allora ecco rendiamoci consapevoli di essere figli del divino volere proprio dal modo con cui ci segniamo con il segno di croce e se noi pensiamo che quando ci segniamo con la croce ci segniamo proprio con il segno della Santissima Trinità e confermiamo ciò che la Trinità vuole darci proprio la purezza della creazione dell'uomo così come Adamo era stato creato nella Divina Volontà il Padre il Figlio e lo Spirito Santo si mettono in moto loro sono sempre in atto di benedirci la Chiesa quando ci benedice noi ci segniamo con la croce non fa altro che prendere da questo fiume di continua benedizione e prende da questo atto continuo eterno ne trae e lo versa sui fedeli e noi ci segniamo con la croce allora il vivere nella Divina Volontà siccome è un vivere che dipende dalla nostra consapevolezza dalla nostra fiducia dal nostro credere deve proprio cominciare anche con la gestualità e con i segni che la Chiesa ci dà e allora quando ci segniamo con la croce segniamoci veramente volendo ricevere questo atto divino che ci trasforma in questo momento e chiediamo veramente Padre Santo Tu vuoi imprimere in noi la somiglianza del Figlio Tuo siamo fatti a immagine e somiglianza di Gesù Cristo e il Figlio ti chiediamo Gesù di rinnovare in noi tutti i frutti della redenzione e lo Spirito Santo ti preghiamo di ecco ridonarci quel dono che è stato perso dal nostro primo Padre Adamo e allora segniamoci nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen non so mi viene in mente una piccola invocazione allo Spirito Santo non so se voi conoscete questa musichetta magari io lo canto una volta poi voi vi accodate io non canto bene ma ci provo veni o sante spiritu veni o sante spiritu veni veni sante spiritu veni sante spiritu veni veni o sante spiritu veni o sante spiritu veni veni sante spiritu veni veni sante veni sante spiritu veni veni o sante o sante spiritu veni 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 sante sante spiritu veni sante spiritu e chiediamo a nostra madre santissima di aiutarci nel fare il nostro atto di fusione nella divina volontà rinnoviamo in questo momento il nostro atto preventivo avete in mente che c'è un passo nel volume 14 che parla dell'atto preventivo e l'atto attuale voi ne avete mai sentito parlare? si si siete tutti tu ecco benissimo ecco benissimo voi ne avete sentito parlare siete bene a conoscenza di quest'atto benissimo però ecco a beneficio di tutti lo ripetiamo e anche di chi non ne ha familiarità certo questo è uno struttivo che si può questo è un altro preventivo è anche seguito la divina volontà eccoci lui ha parlato tante volte a Luisa del valore e degli effetti di un atto fatto nella divina volontà il valore e gli effetti di questo atto e in realtà in realtà la ragione per cui noi ci riuniamo in questi cenacoli è praticamente una quella di ripeterci costantemente continuamente di ricordarci l'uno con l'altro di approfondire il valore e gli effetti di un atto fatto nella divina volontà questa è la cosa che poi ci 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 cattiva ci accattiva ci cattura ci rapisce ed eclissa tutte le altre cose trasforma i nostri gusti trasforma la nostra vita cambia le nostre priorità cambia le nostre abitudini il nostro modo di essere di pensare perché quando iniziamo a comprendere piano piano che vi è un atto alla nostra portata che è l'atto più sublime più importante della nostra vita ogni altra cosa passa in secondo piano non c'è niente che può essere superiore a quest'atto e quest'atto lo posso fare in una maniera molto semplice allora Gesù dal volume 11 in poi si può dire perché diciamo che gli scritti dal volume 1 a 10 parlano molto e forse su questo ci soffermeremo oggi un pochettino di più delle disposizioni come dire l'anima deve disporsi a ricevere il dono del divino volere allora le disposizioni dell'anima tramite le virtù cristiane affinché l'anima possa ricevere e aprire e aspandere la propria capacità a ricevere questo dono della divina volontà dal volume 11 in poi Gesù comincia un'altra sonata tant'è vero che Luisa a un certo punto dice ma Gesù adesso comincia a parlare della tua divina volontà e sembra che non hai nient'altro da dire e dice certo perché la mia volontà la mia divina volontà è più di tutto allora comincia a parlare delle dire ogni cosa ogni atto che tu fai voglio che lo faccia insieme con me non soltanto questo ma io lo farò come facevo i miei atti nella vita nascosta sarò io a fare tutto quanto in te Luisa faceva il suo lavoro del tombo dice ma è possibile veramente che Gesù adesso gli piace fare questo lavoro che sto facendo io e farlo in me certo e come io in fondo metto le mani nelle tue e tu nelle mie contribuisce con me alla santificazione di ogni lavoro umano allora comincia a parlare degli effetti di questo di ogni atto fatto nel volere divino che sono gli effetti dovuti al fatto che il volere divino ha delle qualità e delle prerogative che sono tipiche della natura divina ogni atto che fa la divina volontà riceve le qualità gli effetti le prerogative della natura che compie quell'atto allora siccome Dio è infinito è eterno è onnipotente è onniveggente e quanti altri attributi allora tutto ciò che lui è tutte le sue qualità si mettono in moto ogni volta che lui compie quest'atto e quest'atto viene fuori ed è in atto in eterno con le stesse qualità e prerogative di Dio che l'ha fatto allora quando la creatura conosce che può mettere lei stessa in moto questo atto divino perché la volontà divina diventa la propria allora lui si dice mamma mia quanti atti potrei fare e mi rilascio sfuggire ecco che Gesù dice a me Gesù dice Luisa quanti atti ahimè mi faccio sfuggire la bellezza di questi scritti tra l'altro è che non ci sono minacce non ci sono rimproveri anche se Gesù benignamente rimprovera Luisa lo fa sempre un modo da tirarla su non la schiaccia mai non la impaurisce mai non c'è paura in questi scritti tutto è sicurezza allora Gesù dice non dice si te ne fai sfuggire tanti di atti non dice guarda Luisa c'è quello preventivo e quello attuale tutti quanti sanno cos'è l'atto preventivo io lo vorrei sentire da voi magari così ci arricchiamo a vicenda l'ho letto però non lo ricordo perché quindi vorrei anche certo sì sì perfetto sì perfetto si parla soltanto di nomi di termini preventivo perché previene allora prevenire vuol dire anticipare come dire scontare nel tempo diciamo che la giornata nel divino si poi man mano ogni atto che facciamo si prende l'atto che è un paciente benissimo sì certo e si chiama preventivo è come praticamente quando non lo so chiediamo un prestito a una banca oppure diciamo prendiamo dei soldi adesso anziché prenderli in un futuro dice la banca ti dice io ti do 100 l'anno prossimo 100 tra due anni 100 tra tre anni però se vuoi tutto adesso io anziché darti 300 ti do 270 insomma te lo scontano ecco allora questo è il modo umano di anticipare di scontare di prevenire con un tasso di sconto e si fa il modo divino quando il capitale non è 100 ma è infinito qualunque tasso di sconto uno utilizza l'atto che sconta all'inizio al tempo zero è sempre di valore infinito allora Gesù dice io ecco ti do la possibilità di anticipare tutti i tuoi atti di tutta la giornata a questo momento in modo che quando ci troveremo poi a vivere ogni atto della giornata sappiamo con certezza e con sicurezza che questi atti sono già stati fatti sono fatti nella divina volontà e niente ci può dire il contrario perché quest'atto preventivo è in atto e ha già scontato tutti gli atti allora l'atto preventivo è quando al primo sorgere del giorno il primo sorgere del giorno è allora noi dice appena alzati in realtà il sorgere del giorno è il sole proprio nel linguaggio biblico dove c'è luce il giorno vuol dire il tempo in cui si opera il giorno è il sole è il tempo in cui si opera la notte è l'immobilità è il non fare nulla allora il primo sorgere del sole nel senso che uno si può alzare anche alle due di notte però come comincia ad operare ad esercitare la propria volontà allora vuol dire al primo sorgere del giorno vuol dire nel momento in cui comincia ad esercitare la tua libera volontà intelligente tu confermi e decidi con un atto interiore della tua volontà che tutto quello che farai nel nel corso della giornata vuoi metterlo tutto nel divino volere adesso mi viene di fare un parallelo non so se voi avete letto il volume 1 il volume 1 degli iscritti di Luisa è andata da 12 un po' quasi non ho letto ancora lì medito un po' di l'altro di fatto io ci sono anche la mancanza certo sì sì e allora il volume 1 è un volume molto particolare nel senso che sembra un volume autobiografico in cui Luisa dice la storia di quando insomma ha iniziato a sentire la voce di Gesù e poi i contrasti da parte della famiglia e poi le sue sofferenze e poi Gesù che voleva partecipare ai dolori della passione lei che si voleva nascondere e poi la madre santissima che inizia a chiederle di soffrire e lei che vuole il nascondimento il sacerdote che deve venire per forza sì anima aiutami eccetera allora questo è un primo modo che necessariamente viene visto quando si legge la prima volta il volume 1 in realtà poi in questo volume 1 si ritrovano tutti quanti i passi che Gesù andrà a svolgere e andrà a sviluppare nel corso degli anni per preparare Luisa a vivere nella divina volontà adesso si può dire che prima che Luisa ricevette il divino volere per circa tre anni come alcuni di noi sappiamo Luisa venne messa ad una prova durissima venne tentata atrocemente dal nemico Gesù dice io devo provare la tua fedeltà e l'ha dovuto fare non soltanto per Luisa ma l'ha dovuto fare per il decoro del suo regno perché Luisa doveva uscire vittoriosa dalla guerra più atroce con il nemico e Luisa deve essere la donna che schiaccia il capo del serpente infatti la Genesi non dice una donna schiaccerà il tuo capo dice la donna ecco nella redenzione c'è Maria Santissima ma la redenzione non ha compiuto lo scopo della creazione ci vuole la sconfitta definitiva del serpente ed è per questo che il serpente ha continuato ad andare in giro per essere sicuro che tutte le donne peccassero questo l'abbiamo fatto già nell'Antico Testamento andate in giro ha visto Aveva ovviamente ha peccato allora Esther ha peccato Giudito ha peccato Burilei Rebecca ha peccato Sara ha peccato allora quando poi arrivò a Maria Santissima ovviamente il Signore quando sceglie la donna la copre con delle grazie speciali la nasconde la protegge in maniera particolare ecco per questo come nostra madre Sanitissima è stata chiusa nel Tempio è rimasta chiusa nel Tempio per ben 12 anni si può dire lei a 3 anni è stata offerta da sua madre e poi 12 anni fino ai 15 era il fiore del Tempio e notte e giorno pregava ed era protetta proprio era vicino al Santo dei Santi anche Luisa è stata protetta in un altro modo è stata protetta da una tramite una timidezza parossistica sì Luisa aveva una personalità anche da bambina non riusciva neanche a giocare con le sue amichette passava ecco questa tra l'altro sono diciamo notizie che forse abbiamo così letto una volta però è importante sapere come il Signore prepara le sue opere e in che modo ha preparato Luisa anche per la formazione del regno in lei della divina volontà ma il nemico la faceva spaventare quindi lei piccoletta diventava più timida di quella che era e pregava sempre sì stava paura io ho regalato qualche libro e giustamente non conoscendo questa parola questa persona e tutto ognuno dice ma non è possibile che il Signore è talmente diciamo lo può definire pure cattivo per il fatto che ha fatto soffrire tanto una persona e l'hanno respinto proprio in una maniera unica dice non lo voglio leggere è troppo pesante troppo no 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 assolutamente non voglio leggerlo questo libro mi sento male sono chiamati perché anche anche nella retenzione abbiamo padre Pino ma chi non lo conosce è fra Elia insomma tutte queste che sanguano hanno la passione nessuno dice niente sono per Luisa per l'opposizione le persone ci rimangono un pochino male è verissimo e come diceva la Carla adesso sottovoce sospirando dice non comincio mai dal primo volume a dare perché le persone si spaventano ed è vero il primo approccio con il volume 1 degli scritti che il volume 1 non è uno scritto sulla divina volontà così come non lo è il volume 2 in realtà mi pare forse nel volume 3 il 26 febbraio del 1889 forse è proprio il primo capitolo in cui Gesù dice da oggi in poi voglio che tu tratti la mia divina volontà come se fosse la mia persona è quello un momento mi sono un po' impressionata quando parlava che la mamma non la baciava mai perché doveva tenere quella santità cioè che nessuno poteva non lo so spiegare a parole però l'aveva privata anche dell'abbraccio del bacio della mamma allora io in quel momento ho detto oddio io a mio figlio voglio abbraccio tutti i giorni non ci riesco a fare tutto il genere mi sono preso il mio bambino me lo so abbracciato me lo so abbracciato poi ho detto ma non è possibile c'è una spiegazione a questo forse io adesso non comprendo allora ho capito Maria poi mi viene il passo di Maria no? in quel libro della della novena del mese di maggio no? quando le parla della divina volontà anche no? allora dice io mi baciavo mio Gesù e me lo abbracciavo perché per me era mio figlio e poi era anche mio Dio allora ho detto la fatta Maria ho detto la faccio pure io allora la faccio ma guarda il fatto che non la baciava cioè ti spaventi in certi momenti però poi ritrovi perché il Signore ti mette sull'anno guarda il fatto che non la baciava noi dobbiamo vedere i tempi in cui era vissuta perché già lei e già anch'io io senza divina volontà con il centro umanamente parlando i miei genitori non mi baciavano mai mi baciavano nel sonno c'era una questione anche di famiglia è bello quello che stiamo dicendo adesso è molto importante noi abbiamo giudicato mia suocera che baciava essendo vedova rimasta da sola aveva paura tre figli maschi e baciava i ragazzini suoi nel sonno e questi ragazzini non si sentivano amati dalla madre era il costume l'educazione di allora è una cosa importante è bello quello che diciamo stiamo osservando perché così negli scritti di Luisa soprattutto poi nel primo volume non ci sono soltanto i modi mistici di Gesù c'è anche l'aspetto della cultura del tempo e dei modi umani soprattutto dell'ambiente in cui Luisa è nata ed è cresciuta da una parte c'è proprio diciamo il modo forte delle famiglie diciamo patriarcali di quel amore quasi distaccato dignitoso anche tra i genitori e i figli d'altro canto c'è anche la mano di Dio nel senso che Gesù ha voluto sempre proteggere Luisa da ogni forma di attaccamento umano e da ogni forma di amore disordinato tant'è vero che Luisa sentiva di voler avere la vocazione di religiosa non so se voi avete letto magari nello stesso quadernetto delle memorie d'infanzia dove rimase malissimo quando la superiore lei aveva convinto la madre di andare col calessi a Trani e al monastero per chiedere alla superiore di farla entrare nel monastero e la superiore non si presentò neanche alla porta allora lei se ne scappò in chiesa in lacrime dice perché Gesù lei praticamente aveva fatto il diavolo a quattro in casa aveva convinto sua madre mi voglio fare suore la madre aveva detto non di clausura ok andiamo dalla superiore la superiore dice no ho occupata immagina questa bambina ha il cuore affranto vada a Gesù e dice ma perché perché me l'hai fatto e Gesù proprio conclude del quaderno delle memorie di infanzia allora Gesù mi staccò mi insegnò proprio a distaccarmi a liberare il cuore da ogni affetto da ogni attaccamento umano dice ma sai quanti anche nei monasteri quanti si diciamo trastullano magnificamente con affetti umani e l'abito non vuol dire nulla tu sarai per sempre la piccola monacella del cuore mio così si conclude quella e lo stesso pure nei rapporti con la famiglia ma addirittura anche il padre di Francia quando lui era il suo confessore straordinario non voleva che nessuno toccasse o baciasse Luisa questo diciamo può sembrare così parossistico esagerato però se consideriamo ecco l'importanza del lavoro dell'opera che il Signore vuole fare in questa creatura e che cosa rappresenta tutto è portato all'estremo quasi ad un livello esagerato però Gesù vuole fare il punto diciamo vuole trasmettere il messaggio e non fa altro proprio nei primi nei primi volumi all'inizio a distaccare Luisa da ogni attaccamento dalle creature da tutto e da se stessa e e niente questo è proprio diciamo uno dei temi più importanti per le disposizioni di una creatura che vuole vivere nella divina volontà il fatto di lasciare andare tutto un sacco di cose che potrebbero impedirle il cammino allora perché cominciare col volume 1 non spaventa spaventa perché innanzitutto uno non è a conoscenza di dove vuole arrivare Gesù così come non lo era a conoscenza Luisa e secondo perché non ci sono le verità del vivere nel volere del volume 1 allora il volume 1 si apprezza molto di più quando si comincia a conoscere il valore e gli effetti degli atti fatti nella divina volontà e si comprende che cosa aveva aveva in mente il Signore anche nel permettere che Luisa venisse letteralmente torturata e sballottata anche dal nemico infernale per un periodo relativamente lungo e questo succede anche nella nostra vita quando passiamo attraverso delle prove atroci e durante quelle prove ci troviamo completamente sballottati non sappiamo dove andrà dura dura affrontare le prove in retrospettiva però con la luce della fede sempre immancabilmente troveremo che il Signore aveva disposto le cose per noi in una maniera perfetta e allora mentre noi mentre la creatura imprecava o si ribellava oppure chiedeva perché 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 il Signore stringeva i denti e diceva io ti porterò fuori da questo ma un giorno mi ringrazierai e così è stato anche per Luisa dove dice se Gesù mi avesse detto che mi voleva tenere 40 anni a letto ma adesso adesso l'avrei accettato proprio mai infatti quando le chiese di mettersi a letto Luisa fece quell'assunzione ci lo pensavo a un periodo di 40 giorni e quando disse così dice adesso sono 12 anni che sto nel letto così se Gesù me l'avesse detto non avrei mai accettato però adesso non me ne pento sono contenta perché questo letto è stato il mio paradiso e non lo cambierei per scettere il corone ecco e allora questo diciamo è consolante è forte anche perché ecco forse è una considerazione che è importante fare nel momento in cui ci vogliamo mettere a fare la volontà di Dio stiamoci pure sicuri che il nemico cercherà infiniti modi per distrarci per disturbarci lo farà direttamente o lo farà indirettamente così come sì 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 allora questo è un ottimo segno è un buon segno veramente vuol dire che siamo sulla buona strada io lo sto attraversando certo allora noi non siamo qui per parlare di noi stessi questa è una cosa importante non siamo qui per parlare di noi stessi o per diciamo verbalizzare i nostri problemi questa è una cosa che è sulla dallo scopo del cenacolo però siamo qui per ripetere per portare alla luce alla nostra consapevolezza queste verità e i modi di operare divino così poi ciascuno di noi può identificarsi col modello dell'anima che vuole vivere nella divina volontà e vedere come il Signore sta operando divinamente anche nella mia vita e allora è un ottimo segno vedere e conoscere addirittura quando uno può vedere magari anche tante persone che fanno un cammino che è anche diciamo lontano dalla fede lontano dal Signore e sembra che sono beati e tranquilli ed è così nel senso che quando una creatura vive una vita di mezzo che non è né nero né bianco il nemico è contentissimo diciamo che lui ha una sorta di capitale a disposizione il suo capitale non è infinito come quello di Dio ha un certo capitale a disposizione che ora si espande ora si riduce e questo capitale lui lo gestisce come il più astuto dei manager e lo investe per torturare le creature allora lui dice io c'ho mille poi diremo anche come fa a incrementare il suo capitale per esempio con la festa di Halloween è importante anche dircele queste cose ecco diciamo che adesso c'ha mille questo è sempre che allora e lui dice lui è astutissimo e intelligentissimo e allora investe questo suo capitale per strappare anime a Dio e torturare le anime e allora dice dice vabbè c'è questa famiglia qui i genitori ormai hanno rinunciato alla messa domenicale forse ogni tanto si vanno a Pasqua alla messa e benissimo ricevono anche l'eucaristia senza il sacramento della confessione eccetera eccetera così oppure magari dice quando c'è una via che va per lo mezzo lui non può sprecare il suo tempo le sue preziosissime energie andando a tormentare in modo particolare quelle creature dice vabbè una via per lo mezzo insomma così non c'è problema al momento opportuno darò investirò un pochettino di più quando quando però vede delle anime che vogliono darsi completamente a Dio e che pertanto diventano strumenti di portare altre anime a Dio e incrementare la gloria di Dio qui sulla terra allora lui niente si accende la spia rossa e comincia a puntare quell'anima e certo sì sì e allora direttamente o indirettamente cominciano diciamo diversi tipi di mali di persecuzioni di sofferenze di croci ecco e il Signore diciamo lo permette ma in un certo senso dal punto di vista diciamo dell'anima lo vuole perché poi alla fine tutto per la sola lo vuole perché quell'anima deve uscire vittoriosa deve uscire vittoriosa dall'amico come l'ha uscito Cristo ecco il Cristo redentore non è venuto ad eliminare le pene la croce ma ha divinizzato tutto questo allora per compartire e per partecipare alla sua gloria futura l'anima gloriosa deve partecipare a tutto quello di cui ha patito Gesù e ci devo attirare proprio al momento che è importante che noi riconosciamo che c'è qualche cosa che non va dentro di noi e allora ci attacchiamo ancora di più a lui certo quello che è quando poi l'anima non soltanto vuole fare e dice Gesù a lui se non lo capite l'anima si può confessare può dire 75 rosari al giorno e può andare a 4-5 messe giornaliere e questo e il nemico la fa fare contento non c'è nessun problema ma quando l'anima vuole fare la mia volontà allora quello è il momento in cui il nemico vede questo è quello che distrugge il suo capitale perché aumenta la gloria di Dio e strappa anime a Dio e allora lì diciamo lui comincia ad agire e a cercare diciamo di disturbare così come l'ha fatto per Luisa è interessante vedere come le menzioni del nemico infernale negli scritti di Luisa sono molto intense nel primo volume e cominciano letteralmente a diradarsi fino a sparire completamente diciamo verso il 17 18 così si parla e poi alla fine esce completamente di scena e proprio perché la costruzione del regno della divina volontà che il signore fa in Luisa a Luisa lui non dà dei messaggi come li dà a Međugori come li dà sono delle cose completamente diverse nei messaggi c'è lo strumento che riceve scrive e poi diciamo dice ho scritto questo immediatamente viene pubblicato il giorno dopo anche se venisse pubblicato dopo 30 anni comunque è un messaggio che viene passato in Luisa invece è un'opera divina è come dicessimo la creazione la redenzione nel senso che è un'opera di Dio che deve essere fatta in una creatura allora Luisa è il terzo fiat Luisa uguale il vivere della creatura nella divina volontà allora Gesù prima diciamo parla e mette queste verità dentro di lei le scrive dentro di lei e Luisa si sente trasformata in queste verità e poi Luisa non scrive un messaggio ma mette diciamo lo sbocco che è dentro di lei la parte del suo vero essere trasformato in queste verità vengono poi scritte a beneficio di tutte le creature allora ecco Luisa è stata tormentata fortemente così all'inizio e poi Gesù e qui veniamo al collegamento con l'atto preventivo le insegnò dice il Signore mi insegnò un modo per cacciare via il nemico infernale e diciamo sbarazzarmi di lui e trattarlo proprio come diciamo lui si merita non con la paura ma addirittura quasi con diciamo un atteggiamento di superiorità di scherno e da trattarlo proprio come un moscerino e si vedono poi quei passi dice razzemile dice lei se veramente eravate in grado di fare qualcosa l'avreste fatto dal primo giorno si vede che non siete in grado di fare niente oppure la vogliono picchiare dice vabbè io sto qui aspettate andate a prendere le armi allora questo atteggiamento di superiorità dell'anima che con coraggio non teme gli attacchi del nemico è proprio la strategia vincente allora Gesù insegnò a Luisa il modo per liberarsi da turbazioni e da paure di essere tentato oppure di cadere nelle trappole del nemico infernale e questo costituiva una sorta di protesto cioè protesta di voler di non voler offendere Dio a costo della tua vita in qualsiasi momento compi questo protesto e a costo proprio della tua vita anche chiamando a testimonianza gli angeli e i santi gli stessi demoni piuttosto modo che offendere Dio allora l'anima quando entra nella battaglia dice se io avessi consentito questa tentazione non avrei protestato il contrario questo protesto molto potente in realtà lo potremmo definire l'antenato dell'atto preventivo perché allora diciamo si trattava di una battaglia iniziale con il nemico ed era comunque una sorta di sigillo iniziale quando le lotte con il nemico si attualizzavano poi nel corso della giornata l'atto preventivo è quasi diciamo il risultato proprio celeste di questo protesto in cui l'anima non solo è libera dalle tentazioni del nemico ma si mette nell'ambiente divino ed è lì che protesta a costo della vita a costo di qualsiasi pena io protesto e lo protesto dinanzi agli angeli ai santi con la mamma santissima gli stessi demoni che piuttosto muoio anziché fare un atto che sia un atto solo fuori della divina volontà e allora diciamo che ecco anche nel volume 1 poi ci sono tutti quanti i prodromi di quello che Gesù va a realizzare in modo completo nell'ambiente della divina volontà poi successivamente questo sono 25 anni dopo e c'è l'atto preventivo allora con questo atto preventivo il sole della divina volontà sorge nell'anima e vuol dire che diciamo l'anima si trova sbalzata in un ambiente completamente diverso e come dire se noi potessimo vedere quello che succede quando facciamo questo atto preventivo non ci crederemmo c'è una sostituzione tra l'umano e il divino e come dire se io potessi agire diciamo con la tua volontà vuol dire che mi troverei a casa tua a baciare i figli a fare quello che stai facendo tu perché agisco con la tua volontà nel momento in cui facciamo l'atto preventivo c'è proprio questa sostituzione di volontà in cui la vera volontà divina che si mette come sole il mio sole sorge si mette nella volontà umana e la volontà umana si sperde nella divina addirittura i due combaciano allora in questo momento cambia completamente la scena ogni atto che viene fatto acquista proprio tutti gli attributi le qualità le prerogative della natura divina non più di quella umana ecco noi sappiamo anche che tra l'altro poi nel corso del giorno ci sono moltissime così circostanze che il Signore mette nel nostro cammino per darci la possibilità di fare tanti atti nella divina volontà queste circostanze a volte sembrano delle così delle sfide delle cose difficili e ci danno l'opportunità di riprendere quell'atto preventivo e di volerlo attualizzare in ogni momento quindi riconfermare e espandere quell'atto attuale in ogni atto attuale che noi facciamo adesso quest'atto qui in virtù del preventivo che ho fatto io quest'atto qui lo riconfermo sì è sempre nella divina volontà non fa altro che avere un effetto retroattivo e confermare l'atto preventivo allora questo è un po' è l'inizio della vita nella divina volontà noi leggiamo nelle lettere di Luisa che lei scrive a Rosanna Pettinelli da Firenze a quell'altra signora da Pavia eccetera eccetera ma volete sapere qual è l'inizio della vita nel divino volere chiamare Gesù in tutti i vostri atti Luisa non la metteva in modo difficile è proprio così diciamo si tratta delle cose semplici chiamare Gesù in tutti i vostri atti lo diceva Federico Abres eccetera volere una decisione ferma dice vieni Gesù vieni a fare questo in me non perché lo voglio fare io ma perché tu stesso lo vuoi fare questa è una cosa importante che Gesù dice nel volume 11 fai tutti i tuoi atti e chiama me a fare questi tuoi atti con una cosa specifica molto importante non perché tu lo vuoi fare dice Gesù vieni perché sai devo preparare da mangiare vieni tu a farlo in me dice Gesù io so che tu vuoi fare questo atto allora vieni tu a farlo in me questo è una sorta di esercizio in cui l'anima come dire quasi spersonalizza la propria umana volontà e questa umana volontà viene proprio continuamente a fondersi in ogni istante nella divina e questo crea proprio delle trasformazioni che poi hanno il loro diciamo influsso su tutti gli aspetti della vita dell'anima per esempio vediamo un pochettino possiamo per esempio vedere alcuni passettini dai volumi di Luisa che questo è importante una sorta di diciamo di controllo di check che facciamo sui noi stessi per dire quali sono le trasformazioni che l'anima quasi senza accorgersi subisce nel momento in cui continua a fare questa attività di chiamare Gesù nei propri atti di volersi disporre allora vediamo se queste trasformazioni si stanno operando oppure incoraggiamole diciamo nella misura in cui si stanno effettuando Gesù nel volume 12 dice per esempio al 10 giugno del 1920 ora che chiamo la creatura alla mia somiglianza la metto nelle stesse condizioni in cui misi la mia umanità perciò il tuo appoggio sono io le mie braccia sono il tuo sostegno e facendoti vivere a mezz'aria nelle mie braccia ti possono giungere solo le cose di stretta necessità perché vive nel mio volere distaccato da tutti tutto per me il di più delle strette necessità sono cose vili ed è un degradarsi dalla sua nobiltà se li vengono dati appoggi umani sente la puzza dell'umano e lui stessa le allontana ci vorrei passare tutta la settimana santa su queste parole diciamo sì allora il di più un incremento un punto 5 sopra ad una stretta necessità è un degradarsi dalla nobiltà divina come Gesù dice il figlio dell'uomo non ha neanche un cuscino diciamo non ha dove poggiare la testa ecco e Gesù viveva a mezz'aria dice anch'io ho vissuto a mezz'aria quando sono venuto sulla terra e vivevo a mezz'aria prima di tutto perché il mio compito era quello di stare tra cielo e terra di unire l'umano col divino era l'unico posto decoroso per la mia dignità e per il mio ufficio di redentore vivere a mezz'aria vivere a mezz'aria vivere a sospeso certo un numero di metri dalla terra vivere a sospeso perché prima di tutto doveva lui essere come dire il parafulmine della giustizia divina perché ha preso su di te su di sé tutto come pure ecco ha chiamato Luisa come anima vittima e la sua primo ufficio fu quello di parafulmine della giustizia divina e Gesù stava sempre tra il padre e le creature dice padre guarda me e si preoccupava che faceva operava per i figli e i tre atti costanti di Gesù in ogni istante era quello innanzitutto prima di fare il bene alle creature era il suo rapporto con il padre prima prima ancora di io faccio questo no la prima cosa è la gloria del padre allora lui amava il padre glorificava il padre faceva tutto quello e si faceva atto della parola stessa sua che era la manifestazione del padre dava gloria al padre in nome di tutte le creature dopo che faceva diceva sì però lui il padre diceva va bene figlio mio io ricevo tutta questa gloria a te ma loro non se lo meritano è come se io adesso tu mi chiedi per loro delle cose che loro non si meritano come se la Santissima Trinità e tutti gli attributi di Dio la giustizia la misericordia si mettono in conversazione allora Gesù sulla terra viene a portare la misericordia il padre è quasi diciamo la voce della giustizia dell'Antico Testamento allora si mettono in conversazione tra di loro misericordia e giustizia con l'amore al centro e dicono misericordia per questi miei figli dice e sì ma vedi che allora tra di loro questi attributi divini e il padre e il figlio fanno gli attori di questi attributi divini per bilanciarli trovano questo equilibrio e l'equilibrio deve passare attraverso l'espiazione perché altrimenti la giustizia non viene riparata è tutto amore in Dio la misericordia è amore che perdona la giustizia è amore che riordina che bilancia la sapienza è amore che istruisce allora tutto viene bilanciato e armonizzato allora Gesù prima dà gloria al padre allo stesso tempo è spia per tutte le creature quindi prende di sé la giusta pena che tutte le creature dovrebbero scontare diciamo per la disubbidienza alla giustizia divina e perso ottiene e impetra ottiene per le creature i beni che desidera dare che il padre dà a lui come legittimo figlio lui le ottiene e l'impetra per tutti noi allora per fare questo lavoro Gesù deve stare necessariamente sospeso tra cielo e terra è un lavoro che è troppo divino e non può ricevere nessun aiuto umano ecco né dai suoi apostoli né dall'ambiente politico di Gerusalemme e niente è un lavoro che implica un'armonia tra gli attributi divini che si devono bilanciare è un mandato e un ufficio divino di redentore allora è chiaro che per decoro al suo ufficio Gesù non può che stare tra cielo e terra sospeso e in questa stessa condizione mette l'anima che vuole vivere nella sua divina volontà e che lui chiama a vivere nel suo divino volere e questo è diciamo un segno di amore talmente grande perché Gesù ha un amore gelosissimo per ogni anima che vuole vivere nel divino volere infatti se nelle altre santità lui permette e consente uno sviluppo delle virtù che sia l'obbedienza che sia l'umiltà che siano altre virtù umane che comunque sempre si fingono di umano e sempre hanno l'interesse personale sempre hanno delle perdite di tempo dice nella santità del vivere del mio divino volere non c'è neanche una goccia di interesse umano non c'è una perdita di tempo dovuta al fatto che certe virtù a volte si possono esercitare a volte non si possono esercitare non c'è il minimo di rapporto o di appoggio che uno può ricevere umanamente allora mettere l'anima nella sua stessa condizione vuol dire proprio ecco che a un certo punto dice io sono tutto per te io sono il tuo consigliere io sono il tuo direttore io sono il tuo maestro io sono il tuo tutto questa è una cosa che è talmente individuale tra Dio e l'anima che è importante diciamo da nutrire nel segreto del proprio rapporto con Dio e per questo diciamo che anche diciamo nella diffusione degli scritti della divina volontà quando si iniziano a creare associazioni oppure non lo so istituzioni oppure gruppi che quasi prendono la forma dei modi umani Gesù li lascia fare fino a un certo punto e poi sembra quasi che voglia creare le divisioni o gli insuccessi o cose di questo genere perché l'umano non ha nulla a che fare con il regno della divina volontà e succede spesse volte e questo succede anche per esempio negli Stati Uniti che si creano soprattutto ecco ci sono diverse culture negli Stati Uniti per esempio la cultura dell'idolatria anche della creatura così come il politico viene idolatrato così come la rock star viene idolatrata così come l'atleta il campione il cantante diventa un idolo così pure anche nell'ambito religioso se ci sono delle creature che magari spiccano di più ecco allora si formano questi questi addirittura si si formano questi idoli questi modelli in questa santità quest'altra santità addirittura nel vivere nel vivere Gesù questo non lo può permettere nella maniera più assoluta perché è lui soltanto l'unico maestro tra l'altro abbiamo notato come Luisa stessa è completamente trasparente addirittura Luisa ha quasi un'impressione sembra quasi che diciamo è presente però non è presente in ogni altra diciamo santità che ha come capostipite questo quest'altro santo c'è quasi in un certo senso poi l'idolatria del santo così come pure negli ordini religiosi non lo so San Domenico San Fede allora il fatto il fatto diciamo l'abito eccetera il fatto di portare l'abito diventa diciamocelo pure un motivo quasi di orgoglio di orgoglio umano io sono un Domenicaun e c'è quella gioia gioia santa ma c'è un pizzico d'umano nel portare l'abito bianco piuttosto che quello che c'è vita eccetera allora Luisa è come primogenita di questa santità nel dimmolere nessuno mai gli può venire in mente di imitare Luisa anche esternamente non è un modello che attrae da un punto di vista esterno anche la sua forma di vita non può esistere l'ordine delle suore che vivono nel letto o qualcosa che digiunano per allora tutto diventa quasi paradossale in quello che fa Gesù in Luisa lo porta in un modo estremo e paradossale dal momento al punto che Luisa diventa proprio la distruttrice come Gesù la chiama nel volume d'oggi la distruttrice delle santità al modo umano e la risorgitrice delle santità al modo divino in Luisa si può dire proprio le santità del modo umano vengono compiute e dopo che sono state compiute vengono distrutte e non hanno più ragione di essere nello stesso modo esattamente nello stesso modo per la stessa ragione per cui quando Gesù come dice la scrittura dice San Paolo quando lui si è sacrificato come l'agnello immacolato ed ha strappato i veli del tempo e una volta per tutte si è sacrificato non c'è stato lui ha compiuto tutti i sacrifici di quelle centinaia di migliaia di agnelli che dovevano essere squartati nel tempio come questo offerto in questo modo allora gli uccelli la colomma in quest'altro le purificazioni tutti quei rituali di sangue che erano prescritti nell'antico testamento allora queste le possiamo chiamare le santità dell'antico testamento il modo di seguire la religione il modo di compiere la legge di Dio Dio aveva ecco in un certo senso permesso permesso o prescritto diciamo tutte queste cose e aveva anche permesso il proliferare e di tutti quei 615 precetti oltre lui aveva dato dieci comandamenti questo è tutto basta allora poi invece sono stati creati altri precetti dice il comandamento per esempio del sabato non si può camminare a sabato non si può fare lavoro bisogna riposare lì era stato inviluppato articolato arricchito affogato da precetti che dicevano si possono fare soltanto 400 passi non puoi fare questo non puoi dare a bere al tuo asino eccetera eccetera tutti questi precetti che poi costituivano il modo della santità vista l'antico testamento tant'è vero io faccio questo faccio quest'altro sono a posto e sono in ordine con Dio quando poi è venuto Gesù dice chi è più giustificato quello che il poveraccio che dice non sono degno di guardare il santo dei santi o quell'altro che dice in realtà io digiuno due volte alla settimana faccio questo allora Gesù ha compiuto i suoi sacrifici ha pagato le leggi ha mandato la madre santissima si è purificata andava al tempio eccetera e ha compiuto in modo perfetto la religione dell'antico testamento una volta che gli ha perso il sigillo di compimento questa è abolita non c'è più ragione di continuare per quanto i nostri fratelli ebrei magari c'è qualcuno che dice restauriamo i sacrifici animali non ha senso perché il sacrificio è stato compiuto tutti quei sacrifici non erano altro che la la prefigurazione l'anticipazione la preparazione delle creature ovvero dire il padre voleva dire dovete portare qualcosa che vi costa in realtà inutile non potete voi fare riparazione per i vostri peccati ci vuole un altro essere allora sacrificate questo animale per dire voi non potete mai bastare allora questo era il significato di quegli animali era quasi umiliante per l'uomo per dire vedi Dio mi dice di sacrificare una colomba oppure un agnello per i miei peccati dice guarda è più buono l'agnello che io a fare a riparare i miei peccati Dio faceva un punto paradossale per dire guarda l'agnello è meglio di te ci vuole è impossibile che tu possa veramente scontare il fio con la giustizia divina allora questa umiliazione di dover resquartare gli animali che dice sono più buoni di me ad offrire l'odore gradito a Dio come se la carne bruciata potesse soddisfare diciamo l'olfatto divino a quel punto era nient'altro come dire ci vuole un agnello che è l'unico agnello immacolato che è Cristo una volta che è stato fatto il suo sacrificio tutto il resto dell'antico testamento non ha più ragione adesso e lo stesso pure diciamo con Luisa nel momento in cui Gesù vuole portare l'anima oltre una linea che non è un continuo con le santità umane c'è una completa discontinuità è un qualcosa di completamente nuovo di qualcosa completamente diverso e allora tutto il resto diciamo fa parte di un mondo passato che diciamo opera con dei modi con delle leggi differenti questo è anche il motivo per cui ecco si parla molto della beatificazione di Luisa come se diciamo Luisa come se a un certo punto la conoscenza del vino indivinvolere debba passare necessariamente per la canonizzazione di Luisa attraverso un tribunale canonico che debba esaminare con il modello e il filtro a conoscenza dice queste virtù sono eroiche abbastanza eccetera eccetera come dire far passare attraverso un filtro di giudizio umano una santità che è divina e quindi noi non sappiamo se Luisa avrà mai beatificato o santificato ma vuol dire non è quella la cosa fondamentale per noi per vivere nella divina volontà non è che dobbiamo aspettare che Luisa venga il vivere nel divinvolere in realtà è una cosa che trasforma la chiesa dai sottoscala fino alla fino diciamo alla cupola di San Pietro ma forse non è anche quegli scritti dove diffondere questi scritti che 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 e quindi diciamo che tutti tutti questi tutti i modi umani tutti i modi anche dal punto di vista del bene delle virtù a un certo punto diventano quasi trovano un punto per cui non camminano più diventa quasi diciamo questo è anche il motivo per cui più diciamo una persona una creatura è erudita più ha fatto tanti studi e più diciamo le riesce quasi difficile paradossalmente accettare queste schienze allora chi invece tabula rasa oppure per esempio si è confrontato col fallimento della propria umana volontà e dice la mia volontà umana ha fallito completamente volevo fare questo avevo quest'altro piano ecco la mia vita aveva certi sogni così la mia volontà umana ha fallito nella maniera più assoluta ecco diciamo da un punto di vista personale da un punto di vista professionale da tutto ha bisogno di una volontà come faccio ad agire e quello è diciamo il campo fertile ideale in cui la volontà divina entra entra però non lo so se la persona perché infatti quella persona che io avevo ha studiato filosofia e allora lei si è sentita come se avesse fatto no non è possibile non è possibile sì infatti questo dico che la persona deve acquisire diciamo un po' tutta la storia di Lisa per poter poi immagazzinare e capire poter spiegare quello che è infatti è vero sto fatto che più erodite sono e più vanno ecco tra l'altro è importante diciamo fare queste considerazioni perché noi in questo momento stiamo diciamo meditando pensando tra di noi ma l'impostazione l'approccio non è loro piuttosto che io è un confronto in cui noi mettiamo questo modello parliamo diciamo di queste verità di questi fatti e la nostra anima lavora e allora noi non pensiamo a questa persona piuttosto che un'altra ma ognuno di noi diciamo si rapporta con queste verità perché diciamo quando uno fa l'atto preventivo la mattina durante il giorno magari a volte dimentichi di mettere un'azione poi ti ricordi della mia volontà e la metti durante la giornata vai e tieni non è che riesci sempre almeno per me ancora è piccolo sono i primi passi allora poi ti accorgi dici a me mi è successa questa cosa però questa cosa io la volevo pure ma io sto vivendo nel divinvolere quindi anche Dio la vuole qual è la mia o la sua la sua io dico ma è anche la mia questa io questo fiore l'ho voluto signore pure quindi io l'ho chiesto cioè c'è un c'è una fusione di volontà ecco allora magari che le posso dire oggi ho vinto un concorso per esempio no era la mia gioia congratulazione il concorso che bello magari oddio allora dico signore ma questa è la mia volontà o è la tua perché io ho chiesto a te cioè di vivere in questo ah uno si chiede come va a capirlo ecco come va io ho messo il tutto nella divina volontà ma poi quel lato cioè anche mio io voglio cioè distruggere quella mia volontà no voglio vivere solo della sua ma non si è mica dite le cose che anche io voglio cioè allora io ma tu con quale volontà l'hai fatto con la volontà di Dio ma io allora la volontà sono fatta guarda scusa Marina questo che ha fatto mi succede pure a me e alla fine io l'ho conciliata non so se è stato giusto o storto Marina adesso ci dirà o io ho detto io più che volontà è desiderio e siccome il Signore tutte le cose buone che non sono peccato ci mette la sua volontà quindi io ho pensato io non so se è giusto ho pensato che in questo mio desiderio per esempio il mio desiderio era stamattina venire qui ecco dico siccome è un desiderio buono che il Signore è una cosa buona allora il Signore dice sì e mette la sua volontà con la mia e sono venuta se invece io desiderassi un peccato una cosa allora la volontà di Dio non può venire quindi questo coincidere come dici tu a volte coincide con me questo coincidere il mio desiderio la mia volontà con quella sua è perché nella sua bontà dimmi Marina dico giusto no no sì sì nella sua bontà nel suo amore ci dici sempre sì di quello che desideriamo ma io vorrei che rispondesse Marina rispondi a quello che ti ha detto lei che io ho fatto solo ho messo confusione e io ho detto sì sì che ci accorgi che molto stesso la tua volontà e se più sono in volontà il Signore perché anche io la desideravo con la voce se ti ho dato è volontà sua certo perché poi c'è uno di ma se tu non la non ho avuto questa sì se tu la desideravi se tu la desideravi e non l'hai avuta tu comunque era pure volontà di Dio ma anche il tuo desiderio era volontà di Dio non è che non è che diciamo il vivere nella volontà di Dio è una magia per cui tutto quello che voglio lo vuole Dio e perciò succede no 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 allora il diciamo che Cristo stesso nella sua umanità a Corazim desidero ardentemente che diciamo queste creature mi ascoltino si convertano eccetera oppure sperava di poter vedere sua madre una stagione prima invece poi ha dovuto trattenersi diciamo che Gesù ha vissuto tutte quante le nostre circostranze la mancanza di diciamo di desiderio e la mancanza quasi mancanza di vita Gesù lo dice dice il desiderare è bene però quel desiderio prendilo da dentro alla mia volontà allora prendilo perché è un mio desiderio è buono certo è buono certezza sì sì così come dice Gesù a Luisa ecco tu fai la domanda dal confessore e poi stati a quello che lui ti dice è stata volontà di Dio o ecco questo è volontà di Dio perché io ho pregato proprio con patto per cuore piangevo davanti a sentire certo è volontà di Dio è tutto è volontà di Dio è volontà di Dio che mi doveva stare dito stava allora è volontà di Dio che avesse preso quel lavoro è volontà di Dio che abbia smesso adesso ma allora lo sapete che cosa dobbiamo fare adesso no è importante anche diciamo secondo me vivere questi momenti ma allora lo sapete che cosa dobbiamo fare adesso divina volontà sappiamo che cosa dobbiamo fare un atto attuale e riconfermare il nostro atto preventivo perché che cosa è successo adesso in un modo legittimo normale umano sono venute delle nuvolette che ci hanno distratto allora ci hanno fatto entrare nell'ambito umano di dire questa è volontà di Dio o non è volontà di Dio il vivere nel divinvolere non ha niente a che fare con questo nel senso che certo è volontà di Dio è volontà di Dio e è anche legittimo per la mamma per la creatura di preoccuparsi eccetera ma diciamo la soluzione nella divina volontà non è quella di chiedersi se questa è volontà di Dio o non è volontà di Dio lo è e basta lo è e basta e prendere tutto come volontà di Dio come diceva Giove Signore tu togli e tu dai esatto è volontà di Dio ecco allora diciamo piuttosto che sindacare oppure ci possiamo anche pensare per tutto il resto della giornata non è che andiamo lì ad esprimere delle opinioni però diciamo appunto no no ma è un modo umano è normale diciamo che questo succeda allora ecco quando questi modi umani vogliono fare capolino rinnoviamo il nostro atto preventivo con un atto attuale per dire vieni vieni vento della divina volontà portami ispira ispira con il tuo vento impetuoso come abbiamo fatto ieri facendo il giro della creazione portami di nuovo in questo ambiente divino in cui tutto quello che io voglio contemplare vedere e imparare è quanto è potente un atto fatto nella divina volontà e ogni mia preghiera anche ogni mio desiderio ogni altra cosa anche il bene che io voglio per i miei figli metterlo tutto in questa sfera divina in questa sfera dell'operare del divino volere allora quando diciamo iniziamo a fare a moltiplicare questi atti vediamo come la nostra vita si trasforma e allora i modi umani si abbassano sempre di più cominciamo ad acquisire una nuova mentalità per esempio continuiamo adesso a leggere dagli scritti ecco questo dal volume 1 e poi dal volume 4 e poi da una delle lettere di Luisa Federico Abres il primo tema che è una grande diciamo un grande cambiamento che avviene nella creatura è il rapporto con Dio e con le creature allora Gesù dice a Luisa nel volume 1 perciò voglio che ad occhi chiusi ti stia fra le mie braccia senza guardare e investigare questo e quell'altro fidandoti interamente di me e lasciandomi liberamente operare se poi vuoi fare l'opposto ci perderai tempo e verrai ad opporti a ciò che voglio fare di te in riguardo alle creature usa profondo silenzio sii benigna e sottomessa con tutti fa che la tua vita il tuo respiro i tuoi pensieri affetti siano continui atti di riparazione allora Gesù veramente vuole diventare il campione geloso nel rapporto tra l'anima e Dio prima allora così come Gesù si rivolgeva al padre dice adesso io do gloria completa al padre e adesso vediamo che cosa si può fare con le creature così pure l'anima che vive nel divin volere è sempre in rapporto con Dio prima e poi nel rapporto con Dio il rapporto con le creature sfocia diciamo quasi come una conseguenza involontaria diciamo diventa il riflesso del suo rapporto con Dio allora sempre mettere Dio al di sopra di ogni cosa e come dice Gesù fidando interamente di me lasciandomi operare liberamente riguardo alle creature usa profondo silenzio sii benigna e sottomessa con tutti allora in certo senso ecco secondo c'è molto che noi possiamo imitare da questo insegnamento prendere da questo insegnamento di Gesù rispetto al nostro rapporto con le creature o ai consigli che chiediamo o alle cose che diciamo o ai segreti che riveliamo vediamo nel volume 4 Gesù che cosa dice Luisa la mamma celeste la mamma celeste insegna il segreto della vera felicità che è stare con Gesù solo il 21 agosto 1901 la mamma celeste dice voglio insegnarti il segreto come potrai stare poter stare sempre con Gesù e come vivere sempre contenta e felice anche su questa terra cioè fissarti nel tuo interno che solo Gesù e tu ci state nel mondo e nessun altro a cui solo e lui solo devi piacere con piacere amare e da lui solo aspettare ed essere riamata e contentata in tutto stando in questo modo tu e Gesù non ti farà più impressione se sarai circondata da disprezzi elodi amici nemici eccetera eccetera allora immaginiamo il modello di quest'anima che vuole vivere nella divina volontà per cui c'è soltanto Gesù e quest'anima e ora questo mette diciamo l'anima in una sfera completamente diversa e l'aiuta anche a diciamo di avere distacco dalle creature da se stesse anche da tutte le circostanze poi Luisa dice a Federico Abres voglio dirvi un segreto promesso dal Fiat divino che prenderà a petto suo la sorte di tutti quelli che vivranno di esso e si farà apporgitore di tutto ciò che necessitano tanto nell'anima quanto nel corpo non farà loro mancare nulla e si occorre anche con mezzi miracolosi ci troveremo nelle condizioni della creazione che una cosa creata non ha bisogno dell'altra tutte sono ricche in se stesse stanno però con sommo accordo e non si spostano mai dal loro posto il posto nostro è la divina volontà se viviamo in essa ci terrà alla sua mensa e nulla potrà mancarci quanto è buono il Signore ringraziamolo di cuore nel 1940 ci troveremo noi tra creature nelle condizioni che una cosa creata non ha bisogno dell'altra però tutto sono ricche in se stesse stanno con sommo accordo e non si spostano mai dal loro posto come dire le stelle di cui parlavamo ieri dove ci sono tante costellazioni tante sfere che non si toccano sono distanti migliaia di anni luce tra di loro però si sostengono e si illuminano tra di loro e allo stesso modo ciascuna creatura sente che è sostenuta come conclude il volume 17 dalla sola forza del supremo volere e da nessun'altra allora questo veramente trarre la forza solo e soltanto da Dio dalla divina volontà mette la creatura in uno stato di sicurezza in uno stato di libertà perché si sente che non dipende più da nessuno e da nessuna circostanza non c'è nessuna cosa che le può impedire il suo stare nella divina volontà non c'è nessuna persona che si può mettere tra questa creatura e la volontà di Dio allora questo diciamo è una delle prime diciamo una delle trasformazioni che il vilvere nel divin volere vuole operare nella creatura proprio il rapporto tra Dio e la creatura e la creatura con le altre creature questa forma di vivere a mezz'aria di vivere sospesa di vivere senza gli appoggi umani di vivere dipendendo solo e soltanto da Gesù e Gesù era molto geloso anche con Luisa quando addirittura le volevano dare appoggi o aiuti e Gesù diceva no no di al pari Francia voleva darle i diritti delle ore della passione no 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 sono gelosissimo non lo dico a te ci penso io ci penso io è lui che voleva dice sono io il tuo direttore a te provvedo non solo all'anima ma anche al corpo un'altra un'altra sfera di trasformazioni che opera il divino volere nell'anima sono i gusti i gusti umani e i gusti divini è chiaro che diciamo che noi abbiamo sia da un punto di vista naturale che da un punto di vista spirituale una serie di gusti che abbiamo sviluppato nel corso del tempo e la divina volontà è un cibo che ha un gusto completamente diverso un cibo superiore che è quasi all'inizio non lo so può avere forse un sapore inconsueto amaro come dire adesso uno prova una cucina esotica e sembra così diversa e poco attraente nel volume 15 Gesù dice a Luisa figlia mia anzi Luisa dice a Gesù stavo impensierita il 6 giugno 1923 stavo impensierita sul perché il mio dolce Gesù non ci veniva e dicevo tra me chissà che starà di male nel mio interno che Gesù per non dispiacersi si nasconde e lui muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia il segno che non ci sia nulla di male e che l'interno dell'anima sia tutto riempito di Dio e che nulla le sia rimasto che non sia tutto mio e in tutto ciò che possa accadere dentro e fuori di lei non prova più gusto di nulla il suo gusto è solo per me e di me e non solo per le cose profano indifferenti ma anche se si tratta di cose sante di persone pie di funzioni di musiche tutto per lei è freddo indifferente come cosa che non le appartiene e la ragione è naturale se l'anima è tutta riempita di me è riempita anche dei miei gusti il gusto mio è suo gli altri gusti non trovano posto dove mettersi perciò per quanto belli essi siano per l'anima non hanno nessuna attrattiva anzi per lei sono come morti invece l'anima che non è tutta mia è vuota e come le cose la circondano così sente in sé tanti gusti se sono cose che le piacciono se poi sono cose che non gradisce sente disgusto sì che l'anima sta in continua alternazione di gusti e disgusti e siccome il gusto che non è uscito da me non è duraturo molte volte i gusti si convertono in disgusti perciò si notano tante variazioni di carattere ora troppo triste ora troppo allegra ora tutta stizzosa un'altra volta affabile è il vuoto che tiene di me nell'anima che le dà tante variazioni e mutabilità di carattere niente simile al mio che sono sempre uguale e mai mi muto e Gesù conclude oh come bisogna stare attenti sui diversi gusti che sorgono nell'anima se sono gusti divini dar loro la vita se poi sono gusti umani o di passioni dar loro la morte altrimenti c'è pericolo di precipitare nella corrente del male per esempio il gusto che si prende a leggere gli scritti di Luisa è un gusto che si acquisisce piano piano ed è anche un gusto che va alimentato perché sì se è un gusto che l'anima si inizia a per esempio a leggere altre cose oppure a interessarsi di altre cose allora inizia quasi a mischiare dei gusti umani con dei gusti divini e si sente subito e si nota subito la differenza e poi anche diciamo man mano che si leggono gli scritti di Luisa che sono la voce di Dio la voce di Dio parlante operante che vuole fare una nuova creazione nella letteratura tutto il resto della letteratura umana anche pia anche sacra anche religiosa e diciamo non potrà mai più appagare l'anima e come sì sì io lo so io di sera per esempio sono messa a leggere un libro diverso dal solito la mia mente era là diciamo io non ho detto e poi non posso non mi piaccio niente sono andata a riprendere a me è una gioia sentire anche voi parlare io non è anzi mi piacerebbe molto sentire ciascuno di voi anzi vi invito a parlare no 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 anzi non vogliamo sapere no ma tra l'altro questo proposito proprio Luisa dice Gesù dice a lui la prova a mettere fuori il naso della mia volontà vedrai come tutti i mali ti piomberanno addosso nel senso che più l'anima vuole vivere nella divina volontà appena le capita o Gesù lo permette proprio per farle pronunciare quel ancora di più appena mette il naso fuori diventa ancora più atroce quella uscita ecco e questo è proprio la strategia del signore che vuole compiere quel suo da qui non si esce rende assolutamente impossibile all'anima uscire dalla sua volontà perché quando l'anima ci prova per debolezza mette il naso fuori dalla finestra dal palazzo reale oppure si affaccia al balcone allora diventa talmente brutto l'incontro con tutto quello che c'è fuori e non appagante che si va a nascondere nelle stanze ancora più profonde nella camera da letto nei sotterranei nella sottoscala di questo palazzo divino della divina volontà ecco no questo è bellissimo diciamo da sentire anche nell'esperienza delle persone per far parlare per consentirmi di ascoltare di adorare in voi la divina volontà scusate certo la divina vita io sulla terra il paradiso questo ma pensavo si deve arrivare si deve arrivare scusa scusa no va bene allora niente continuiamo su questa meditazione su questa riflessione quindi come la divina volontà cambia il rapporto con Dio con le altre creature e anche cambia trasforma i gusti da umani a divini e cambia il modo diciamo di vita e le esigenze viene a ridurre quasi all'essenziale quelle che sono le attività esterne mentre perché l'anima a un certo punto è sempre più occupata in questa attività interiore la santità del vivere nel divino è una santità di atti interiori l'atto è tutto quello che si fa con la volontà mentre nelle santità umane ci sono atti che necessariamente devono prendere delle forme esteriori vedi le preghiere a questo a quest'ora o l'abito in questo modo oppure delle regole la regola delle santità umane invece una cosa peculiare e unicissima della santità del vivere e del divinvolere è una santità di atti interiori questa santità si svolge proprio all'interno dell'anima ovviamente si ripercuote all'esterno no so è riattaccato sì è un po' chiede l'istanza venisse scusate no no figure no gli atti interni si ripercuotono all'esterno però è una santità che si svolge come vita come successione di atti all'interno dell'anima infatti all'esterno uno potrà dire questo qua è benedettino questo qua è gesuita ma non potrà mai dire questa persona vive nel il vivere verso questa persona non vive nel divinvolere si sentirà magari ecco la divina volontà esce fuori da questa persona così come le persone che andavano a visitare Luisa se ne uscivano trasformate e avevano un incontro con il Cristo vivente in Luisa però ecco non c'è niente di esteriore che possa dire o non dire quest'anima vive o non vive nella divina volontà così pure come non sia mai diciamo una creatura inizia a sindacare che tipo di atti sta facendo un'altra che si sono animati con l'umano volere di un involere no questa è una cosa che sta nella sfera nel segreto più assoluto tra l'anima e Dio anzi più segreto è e meglio è è proprio la vita del nascondimento se ci pensiamo è proprio la vita nascosta di Gesù che durò per diciamo 30 anni infatti proprio nel volume 11 Gesù parla a Luisa dice questo vivere nella divina volontà proprio è la ripetizione della mia vita nascosta in cui Gesù faceva delle cose normalissime e nessuno si poteva neanche immaginare che lui fosse ma un santo sì non lo so dice magari a Nazareth dice ma quando si sposa oppure niente pressioni la famiglia questo uno che ha la testa tra le nuvole questo però tutto quello che si svolgeva all'interno tra Gesù e il padre nella sfera dei suoi atti interiori nessuno lo poteva conoscere soltanto nostra madre santissima perché era partecipe di questi atti li compiva insieme con Gesù allora un'altra delle spie che da un lato ci fanno conoscere che la divina volontà sta operando in noi da un altro canto sono un'indicazione della direzione in cui noi ci dobbiamo muovere oltre al distacco dalle creature oltre l'acquisizione di questi nuovi gusti divini c'è anche quello di un modo di cercare di semplificare la propria vita esterna il più possibile anzi questa è un'esigenza dell'anima perché si vuole sbrigare si vuole sbrigare da tutte le cose che possono in un certo senso distoglierla dal continuare questa attività interiore allora questo non vuol dire che le occupazioni si riducono ma tutte le occupazioni inutili come dice anche nostra madre santissima Abbe Giugori lasciate semplificate la vostra vita non vi impelagate in attività che non sono necessarie e questo pure l'anima ne sente le esigenze e questo è anche quello che opera la divina volontà nell'anima riduce all'essenziale come abbiamo visto al minimo allo stretto necessario la vita esteriore ed espande comincia a espandere la vita interiore ora questo ha maggior ragione se pensiamo che il vivere nel divino volere e si tratta poi del continuo giro nell'anima negli atti della divina volontà non è soltanto il chiamare la divina volontà ad operare nelle nostre occupazioni umane ma è proprio il voler l'anima seguire come un orologio incessante non soltanto l'orologio della passione ma l'orologio degli atti luminosi di Gesù l'orologio degli atti santificanti dello Spirito Santo l'orologio e le lancette degli atti della creazione è come diciamo un richiamo per cui se la divina volontà sta facendo in atto questi atti l'anima che sta in questa volontà non si può esimere dal fare gli stessi atti allora diventa proprio un richiamo necessario cioè io sto facendo questi atti e l'anima stessa comincia a muoversi e deve seguire gli angeli i santi e la volontà divina che sta operando in modi infinitamente diversi nel tempo e nell'eternità allora un'altra delle trasformazioni è quella che riguarda il silenzio ne abbiamo già toccato però vediamo il silenzio leggiamo dal passi di Luisa il silenzio sia interiore che esteriore tutta la natura invita ad un riposo 20 maggio 1900 volume 3 ma qual è il vero riposo? è il riposo interno il silenzio di tutto ciò che non è Dio vedi le stelle scintillanti di luce temperata non abbagliante come il sole il sonno il silenzio di tutta la natura degli uomini e fin degli animali che tutti cercano un luogo una tana dove starsene in silenzio è riposarsi dalla stanchezza della vita se ciò è necessario per il corpo molto più per l'anima è necessario riposarsi nel suo proprio centro che è Dio e allora vediamo ancora quest'atto della divina volontà che compie nelle stelle così come abbiamo avuto il rapporto tra le diverse stelle che è l'atto della divina volontà che troviamo nella creazione come modello del rapporto tra le creature allo stesso modo l'esempio del silenzio o dell'armonia delle sfere è proprio quel bisogno innato che tutta la creazione ha di riposare e di trovare il silenzio e lo stesso pure per l'anima è necessario riposarsi nel proprio centro che è Dio ma per potersi riposare in Dio è necessario il silenzio interno come al corpo è necessario il silenzio esteriore per potersi placidamente addormentare ma qual è questo silenzio interiore e far zittire le proprie passioni col tenerle a posto e imporre silenzio alle inclinazioni agli affetti insomma a tutto ciò che non chiama Dio ora qual è il mezzo per giungere l'uomo a ciò l'unico mezzo assolutamente necessario è disfare il proprio essere secondo la natura ridurlo a nulla come un nulla era prima che fosse creato e quando l'avrà ridotto a nulla il suo essere riprenderlo in Dio ecco un'altra cosa che diciamo un altro dei segni dell'operare dell'anima nella divina volontà è proprio il bisogno di silenzio l'importanza anche del meditare questi scritti e di prendere tempo per meditare per pensare a questi scritti a questi insegnamenti e anche per metterli in pratica per esempio una volta che l'anima anche apprende nuove conoscenze che sia un cenacolo che sia un ritiro che sia una lettura così come per il corpo esiste la digestione l'assimilazione lo stesso anche per l'anima allora spesse volte anche diciamo nei modi umani le anime tendono a correre di qua e di là da questa conferenza a quest'altra da questo ritiro a quest'altro e poi alla fine diciamo si trovano più vuote di prima perché non si ha il tempo per diventa diciamo c'è un desiderio innato di andarsi a riempire di Dio e Dio riempie questa cisterna però immediatamente si forma il buchetto e viene tutto fuori perché sì perché non viene assimilato non viene assimilato allora i tempi del vivere del divinvolere sono tempi divini sono tempi lunghi sono tempi a cui diciamo l'anima si deve diciamo adagiare si deve adeguare e non c'è nessuna fretta nel divinvolere ma bisogna anche prendere il proprio tempo per diciamo assimilare meditare sulle verità applicarle e trovare diciamo i modi anche nel nel nostro modo di pregare per poter ripensare ingaggiare le facoltà del nostro mente l'intelletto la memoria la volontà per ripetere e rimuginare questi come un po' faceva Luisa Gesù le dava una verità e poi Luisa la pensava avete notato qualche volta come negli scritti il capitolo dopo lei sta applicando quello che Gesù le aveva detto due capitoli prima allora Gesù la trova in quell'atto di applicare allora in quel momento lei è pronta per ricevere un'altra un'altra verità quando invece Gesù non le parla dice Gesù non mi hai parlato per parecchi giorni della tua divina volontà dice perché devi ancora rimuginare devi ancora assimilare quello che ti è stato dato allora uno strumento potente per consentire all'anima di espandere la propria attività interiore e la meditazione è proprio quella del proprio quella del silenzio se e questo diciamo lo troviamo se vediamo i modelli del vivere nel divino volere che sono Gesù Maria e Luisa tutti e tre proprio se prendiamo proprio spunto dalle loro vite e da come si sono svolte vediamo che per loro il tempo dedicato alla preghiera al ricongiungersi in Dio se vediamo questa anche la proporzione di Gesù che ha vissuto 33 anni allora 30 anni sono di vita nascosta tre anni sono di vita pubblica allora un buon modo per me di rapportarmi tra diciamo l'atto esterno e l'atto interno come dire diciamo io devo il rapporto è uno a dieci no? ci vogliono dieci misure di preghiera di atto interno di silenzio e poi una misura in cui l'atto viene fuori e diciamo di atto esterno allora per essere sicuro che quest'atto interno sia pieno zeppo di Dio e di divina volontà questo diciamo non è che crea una proporzione matematica necessaria però ci dà un certo ordine per comprendere anche diciamo come naturalmente siccome una santità di vita interiore la vita interiore necessariamente è fatta del silenzio del silenzio di tutto ciò che non è di Dio nelle cose esteriori ma anche del silenzio interiore che è quello di stare nella pace e il tema del riposarsi in Dio di stare nella pace è un tema tanto caro a Gesù infatti lui si diceva a Gesù non permetteva non mi lasciava a volte finché non vedeva che mi trovavo nella pace perché è la cosa che lui era la cosa più cara perché la pace è la porta attraverso cui entra la verità se non c'è la pace la verità bussa 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 ma non riesce ad entrare